Siete andati e ritornati da ciò che vi ha tenuto impegnati la notte precedente. Avete avuto a che fare con molte esperienze negative fin da quando siete giunti a Carlsbad, sicuramente. Come se da una parte il destino vi volesse comunicare qualcosa, come se forse il vostro viaggio è destinato a terminare ben prima di quanto potreste aspettarvi. Oppure al tempo stesso sta cercando di mettervi alla prova per vedere se siete degni di governare il Min'Kai. Mi svegliate, è mattina e in realtà vi sono le prime luci dell'alba che illuminano il cielo quasi ancora del tutto blu profondo. La neve ha smesso di cadere su Carlsbad, eppure però chiaramente una coltre è piuttosto alta e rimasta per terra. Allora mi alzo... Ah? 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 È probabile che so io, eh? Sì, sì. Si illumina quando lo fa, succede. Eh aspetta, allora metterò sto maledetto. Ok, allora noi sapevamo che quella cosa chiamata Rocca del Corvo mi pare, l'abitazione dove erano, che era segnalata sui registri contabili, si trova fuori città, no? Esatto. Ne conosciamo le tante obbligazioni, dobbiamo chiedere. Puoi farmi una prova di conoscenza Rocca, volendo. Ok. Intanto ci vado a cercare, intanto che lui fa questa cosa, ci vado a cercare un po', vado a fare un po' il punto della situazione con tutti quelli dell'accampamento, insomma. Sì. Ti conviene anche chiedere se conoscono sta Rocca. Sì. Ok. Vabbè, lo seguo, intanto è una cosa che avrò fatto appena saputo il nome di sta zona. Perfetto. La mattina ormai si è completamente palesata su Kalsgaard. Tra il tempo che avete messo, avete impiegato per svegliarvi, per alzarvi, anche per riprendere un po' il punto della situazione. Insomma, vi siete messi lì e avete iniziato a dialogare con gli altri sul da farsi. Tu, Akira, tra tutti ti approcci... Scusami, cosa avevi detto? Eh, perché ci vado a fare il punto della situazione con tutti quelli di... con le persone notabili, insomma, con Sandro, ti voglio dire quello che è successo. Scusami, mettete tutti accanto al falò e iniziate a parlare di quello che dovreste fare. Sandro, nel frattempo, ascolta quello che hai da dirgli con tono... scusami, no, con tono, con un'espressione seria, diversa da quella che conosci, quella del solito Sandro, un po' scherzoso. Scusami, effettivamente, negli ultimi tempi è sempre un po' così... serioso, forse perché le situazioni che state vivendo lo impongono. Con voi, al campamento, vi è anche, chiaramente, il sacerdote di Sheline, che avete, potremmo dire, reclutato il giorno prima. Lui sembra essersi, tutto sommato, adeguato bene al gruppo, in ogni caso, non stona, ecco, non sta in disparte, si è messo lì con voi a parlare. Allora, come sapete, stiamo cercando... oramai non più soltanto... non stiamo solo cercando una guida, ma stiamo anche cercando di salvare una vita, perché a quanto pare... Wolf... Wolf, no? È in pericolo, è stato rapito ed è stato portato... alla... alla rocca del corvo. E alla rocca del corvo penso che troveremo anche la spada che stiamo cercando, troveremo la nostra guida e riusciremo a portare un po' di chiarezza in tutto quello che ci sta succedendo, compreso anche cercare di liberarci degli occhi che continuano a guardarci dall'alto, degli assassini che cercano di piantare pugnali nelle nostre spalle e ai sicari che distruggono tutto ciò verso cui ci approcciamo. Quindi immagino che il nostro viaggio sarà definitivo in un modo o nell'altro. Quindi immagino che... beh... sia doveroso dire che, se non ci vedete tornare... in qualche modo proseguire verso il Min Kai. Ameiko... alza la mano improvvisamente come a fermarti. Squota la testa come... attonita. ha inarca un sopracciglio, fa una smortia... con la bocca. No Akira, non ci siamo capiti. Voi... voi non andrete da soli alla ruta del corvo. Chiaramente. In che senso? Vi accompagneremo con tutta la carovana. È così... stassioneremo fuori. Non importa quanto sia lontano. Non penso che sia... nemmeno così vicino, ecco. Non penso che uscendo da Kalsgard si arrivi alla ruta del corvo. E dal momento che non abbiamo altre cose da spiegare in città, almeno per il momento, penso che sia opportuno che vi seguiamo. Dopotutto, altrimenti come sceglieremmo chi comporre la spedizione a questa rupe? Come dovremmo forse valutare i membri del nostro gruppo? Qualcuno conosce qualcuno da rimanere a questa rupe? Io, in realtà, non so niente. La ragazza si guarda intorno. Tra tutti quelli che sono lì, seduti accanto al Falò. Chiaramente vi sono i vostri amici, i vostri compari più fidati, le guardie, i cuochi, coloro che effettivamente non sono così stretti o che forse lavorano per contratto o se ne stanno in disparte, anche perché a livello decisionale nella carovana non contano poi così tanto. Però, tra i vostri compagni seduti davanti al fuoco vi è anche il vecchio sacerdote che sembra voler prendere la parola, ma al tempo stesso esitante, come se volesse in un certo senso mantenere la sua posizione subordinata. Se sapete qualcosa dovreste parlare. E soprattutto dirci il tuo nome perché non abbiamo fatto in tempo a presentarci. Il vecchio uomo sorride pacificamente. Dovete perdonarmi, messeri. Mi sono presentato stamattina alle prime luci dell'alba con i vostri compagni, ma voi che avete fatto tardanotte non eravate lì. Ripeterò dunque il mio nome. Mi chiamo Inpo e come sapete sono un sacerdote della bellezza e dell'arte. Shalino. Io effettivamente potrei sapere qualcosa su questo rupo del corvo. Voci che ho sentito nel corso della mia vita qui a Kalsgard. Da quello che so si chiama il rupo del corvo perché è ammidata tra le rupe rocciose a sud di Kalsgard. È accessibile solo ai corvi che per questo motivo le dono nel nome. Considerato che ce ne sono pochi di corvi a Kalsgard e faccio un cenno con la mano. Se ne sentiamo proprio il bisogno. il sacerdote sorride forse per circostanza. I vostri compagni vi sembrano sempre un po' addormentati stanchi sia dal viaggio che da tutto quello che state vivendo per quanto loro non siano i protagonisti principali delle vostre vicende lo stress la pressione la sentono pure loro chiaramente. Lo leggete nei loro volti lo leggete quasi nella loro anima. Molta di questa gente molti dei vostri compagni non sono minimamente abituati ad una cosa simile non vengono dopo tutto come voi da da un paesino della Varisa che tutto sommato e c'è tutti gli attacchi di Goblin negli anni precedenti era tranquillo era una realtà di campagna che niente aveva a vedere con tutto questo niente aveva a vedere con razziatori vichinghi e ninja da terre lontane che cercano di pugnilarvi le spalle ogni qualvolta possono. In realtà se qualcuno me lo raccontasse lo giudicherei una fandonia quindi non ci metto molto a comprendere la loro stanchezza. L'unico anzi in realtà le uniche due persone tra gli umani si intende o meglio tra gli esseri di questo mondo e non esterni le uniche persone che sembrano apprezzare o meglio sembrano essere veramente eccitate sono Kei e Koya per abbi motivi Koya ha sempre sempre desiderato viaggiare in terre lontane uscire dalla varisia e Kei beh gliel'abbiamo promesso quindi Kei non sa ancora quanto sia brutto Kei ancora non ha preso le botte e quindi esatto se tu ridi però poi prendi le botte e non ridi più durante il vostro la vostra discussione matutina accanto al Falò a Koya in più in più situazioni sembra voler empatizzare qui il concetto che a lei non non dispiace avere un chierico un prete di Shaleen tra di voi ecco ti lancia anche delle bell'occhietacce Aidan per chiaro tu la conosci è quasi come se fosse tua madre e lei conosce te probabilmente se ti ha visto come guardavi questo nuovo arrivato in po' riprende la parola durante il nostro viaggio miei amici potrò portarvi sulla via dell'estetica della bellezza potrò forgiare costruire per voi ciò che vorrete dopo tutto noi sacerdoti di Shaleen siamo famosi per trasporre l'arte nel mondo reale fisico per così dire beh già artisti siamo tutti artisti voglio dire con 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 Ameiko se è sionato si è ballato e si è cantato durante tutta la strada Ameiko sorride e ti ammica ci servirebbe un basso canti potremmo dire di sì i templi di Shaleen sono costantemente animati da musica e canti beh ti troverai benissimo qui allora lui si guarda in giro con aria a buon aria lascia andare un sospiro credo proprio di sì eppur però la malinconia di questo luogo della mia casa del mio santuario rimarrà per sempre purtroppo ciò che è distrutto difficilmente si può ricostruire esattamente com'era si può ricostruire da un'altra parte magari con lo stesso scopo però sicuramente nuovo sia nel significato sia nella storia che poi lo accompagnerà vi seguirò dovunque andrete poiché non ho altro scopo ormai nella mia vita chissà magari perfino un povero vecchio come me può rinascere bene ottimo ma Meiko lo lo osserva e poi ti lancia un'occhiata enigmatica anche beh io credo che sia possibile guarda Koya lei lei dopo tutto non ha mai smesso di essere giovane perfino nell'inverno della sua vita qual è la droga Meiko eh volevo dire scoppia una risata generale accanto insomma manda un bacino da Koya sai proprio ti può baciarsi la manina così Koya Koya incrocia le braccia e fa un'espressione incattivita e ti osserva la sua unica droga è la determinazione si si lo sappiamo tutti chiamiamola così adesso si chiama così beh si Agra fai fai pure il furbo vedremo quando avrai bisogno di qualche consiglio o di una cura vieni da me ah cominciamo già con le ripicchine su via su via Sandro si intromette nella discussione prima che degeneri si alza in piedi dal ciocco di di legno su cui era seduto si mette diciamo quasi in mezzo tra voi anche se un po' a distanza dopo che vi è il falò che che sta nel mezzo del vostro cerchio e vi guarda su via stiamo calmi non è il momento accidenti a te cazzone di un pegarawashi è solo che tu non ti alzi e non prendi è solo che tu non ti alzi e non ti prendo schiaffi quindi mi sale sei il mio punch sei il mio sacco da box preferito e quindi che te la prendi con le vecchiette come cosa coi ha dato della vecchietta ti rendi conto che affronto in mezzo a questo caos io nel frattempo mi avvicino a ragazzi ok guarda la situazione tra un misto di sì un po' incredulo un po' divertito non sa bene come reagire ecco ok questo è un perfetto esempio di quello che dovrai imparare a sopportare ogni mattina ogni giorno in cui viaggeremo e probabilmente anche quando ci fermeremo sarà così chiamala pure una sfida la prima sfida sul tuo sentiero del samurai mantenere la concentrazione e allenarsi in questo taos non è semplice ma sono sicuro che ci riuscirai beh immagino che anche un samurai ogni tanto abbia bisogno di un po' di svaga arriveremo anche a parlare di quello fidati anche perché do un po' che non riequilibrio il mio yin e il mio yang e tipo ho la mano appoggiata sui fianchi molto vicina però lo guardo e faccio tra l'altro qui c'è un quartiere vabbè non è il momento stai insegnando al ragazzo adorato ma certo è vero che è seduta via di tavolo Shalellu che è seduta a fianco a Kay perché lo sta seguendo nel suo addestramento coltito con l'arco ti lancia un'occhiata atruce guardo con lo sguardo innocente sai che lì proprio tipo cazzo è una beccata è inutile che mi guardi così ne abbiamo già parlato ai tempi il mio maestro il mio maestro la vedeva a lunga alla fine questo tipo di pratica meditativa è è solo un modo per differenziare il corpo dal sentimento Tauno Tauno guarda sono un demone quindi ok però no non fare questi dito cioè si lo so lo so non ci sono scusanti non posso farci nulla ognuno ai suoi ai suoi difetti questo sentite il vento sentite il vento guardate sto cercando di distrarvi non credo non credo di dovermi scusare per per certe cose mentre stai dibattendo l'elfa si alza in piedi con aria quasi sprezzante ma almeno stesso divertita chi scusa l'hanno capito l'elfa Shalelu ok e si gira molto lentamente lanciandoti un'occhiata Tauno beh da quello che mi ha detto Calda forse questo tuo esercizio dovresti farlo un po' più spesso dal momento che non sembri essere molto ferrata e poi si allontana dal ceppo verso il carro questo è un colpo bassissimo che poi tra l'altro non è nemmeno coerente con quello che è successo ma vabbè mi tolgo il rosario lo butto per terra tipo mic drop si tipo dubbi che saltano all'indietro wow il tono di Shalelu io le guardo in culo comunque quando sono lontano bene è molto definito è da elfa insomma la tua filosofia è male spesso Tauno non so come tu possa trovare del male nello scaricare la tensione fisica non male in quel senso lo so quello che intende Vachira ok questa giornata ho preso una brutta piega non vedo l'ora di poter portare un po' di purezza in quel in quel del corvo in qualcuno c'era quel bordello in cui portare purezza ne avranno una la droppa del corvo ad ogni modo stavo parlando con il mio discepolo posso tornare signori a fare il mio dovere di maestro oppure volete continuare voi ho quasi paura a sapere quello che mi insegnerai coglietti guarda senti Tauno vai un po' più là a parlare col tuo discepolo di queste cose non sia mai che la tua persona e il tuo onore venga macchiato di fronte al tuo albiere ah io non ho nulla di cui vergognarmi né da recriminare non è il mio onore che viene macchiato è solo la mia pazienza che viene accorciata e guardo con con un sorriso sornione non sempre bisogna agire c'è anche il momento giusto in cui la pazienza va via e qualcuno si allontana per un po' ad ogni modo ok come ti dicevo non è facile mantenere la concentrazione all'interno di questo campo e credo che per una volta seguirò il consiglio di coglia vieni con me mi alzo e faccio cioè mi allontano magari una decina delle metri ok ti segue rispettoso senza nel frattempo quando tutti gli altri stavano ridendo di te principalmente ok in realtà cercavo di mantenersi il più serio possibile anche se sotto i baffi per la volta gli scappava una risatina vabbè ma è legittimo non è che come ho detto non è una cosa che io recrimino come offensiva cioè riconosco la debolezza e l'accetto nel frattempo Sandro si rimette a sedere e vi osserva la sua espressione ritorna seria come se di colpo i vostri pensieri i vostri pesi il fardello sulle vostre spalle sia tornato improvvisamente a pesare su di voi ad incombere su di voi signore è tutto molto bello ridere scherzare so che sono cose necessarie ma abbiamo un compito da svolgere ed io non concordo con la Meiko secondo la mia opinione alcuni di noi dovrebbero prendere i cavalli e andare alla alla rupe magari anche creare un campo provvisorio là ma portare tutta la carovana no no è una follia secondo me ci esporremmo troppo portare tutta la carovana sono d'accordo con te anch'io un piccolo gruppo sarebbe l'ideale Meiko incrocia le braccia vi osserva con aria dura un'aria che se di lei avete visto poche volte e tutte le volte che si è manifestata non avete saputo resistere alla sua volontà io mi pare di essere stata chiara su ciò che voglio è il tuo ordine imperatrice si lascia scappare un sorrisetto non mi piace abusare del mio potere Akira lo sai bene ma dopo tutto lo sto facendo per noi per il gruppo voi volete lanciarvi in una missione di suicida da soli e se e se vi succedesse qualcosa se quando siete all'Europa del Corvo per qualche tragedia non riusciste più a tornare chi lo saprebbe come sapremmo ritrovarvi dove soprattutto beh ci sono le capacità di coia beh ma questo questo è vero devo riconoscertelo Hayden ma comunque non voglio perdere una parte fondamentale del mio entourage io c'è da dire che mettiamola così rischieremo di perderlo tutto l'entourage beh la nostra carovana comunque è ben fortificata siamo abbiamo resistito ad un viaggio nelle terre del nord su delle scarpate che da un momento all'altro potrebbero rivelarsi più fatali di questi fantomatici ninja e voi adesso non mi state dicendo che per proteggere due carri e due barili di vino avete intenzione di lanciarvi in una missione suicida da soli voi non avete capito come funziona al mio servizio ti lanciamo tutti insieme in questa missione suicida e aspetta riguarda con un'aria improvvisamente altezzosa aspettando le vostre risposte io comunque se sento anche solo qualche pezzo qualche pezzo del dialogo ma vicino cioè a che gli lascio praticamente gli do un'asta e gli faccio fare un esercizio semplice a fondo e gli spiego come si fa e poi vengo là e gli dico di continuare che me ne accorgo se smette l'esercizio scusami come? i classici fendenti dall'alto per allenare il movimento ok si chiaro riesce a sentire quello che sta avvenendo nel campo soprattutto perché Michael ha alzato la voce ok ora io torno là la guardo guardo la caruana guardo Akira e gli altri beh io non sarai un po' avventata? forse forse non abbiamo spiegato noi bene la situazione me ne rendo conto e anche il discorso che sentivo prima potrebbe averti spaventato molto ma mia imperatrice il nostro avversario non è qualcuno comune mettere a repentaglio anche le persone che non sono abili nel combattimento affrontando il viaggio con l'intera carovana arrivare alla base del nostro attuale nemico con a distanza non ci vedranno se ci muoviamo di notte riusciremo ad avvicinarci abbastanza da poter osservare i dintorni trovare la via d'ingresso una carovana assinuata da chilometri di distanza ameico indica i corbi ci sono sempre questi ci sono sempre i corbi e dunque ci hanno servito fino ad ora farà differenza perché si dovranno preparare a combattere con tre persone che possono dividersi o essere divise e che comunque sopravvivranno in tre perché sappiamo combattere insieme ma se dobbiamo occuparci di difendere anche la carovana anche se non saremo solo noi tre a difenderla saremo un bersaglio troppo grande troppo facile da prevenire e da abbattere in cui saremo molto più difficili da affrontare sa che le tue parole e osserva i vostri i tuoi compagni calma quelli che sono seduti accanto al falò le persone più importanti della carovana non mi resta altro che metterla ai voti non posso decidere se le persone più fidate che ho non concordano con me non voglio nemicarmi nessuno di voi nessuno dei miei amici e non voglio che iniziate a vedermi come una persona diversa non voglio che d'un tratto non akira aspetta voglio che per voi da rimanga quella che sono voglio che che voglio essere ameiko almeno per un po' non voglio essere l'imperatrice il vostro capo tutto questo non mi si addice quindi la cosa che mi intero da fare è decidere insieme come abbiamo sempre fatto bene mi annoisco lo apprezzo eppur però voglio sentire ciò che aveva da dire a volevo solo dire che non sarà una certa decisione perché capisco il tuo punto di vista capisco perché tu voglia venire a combattere secondo me la cosa migliore da fare è al massimo prendere uno di voi tra Shalelu tu Sandro insomma un volontario che si unisca a noi e gli altri rimanere qui c'è America annuisce quasi rassegnata bene dunque decidiamo sul da farsi votate scegliete alla fine la maggior parte decide per la vostra risoluzione ovvero alcuni scelti andranno alla rupe e gli altri rimarranno qua alla fine vengono proposti viene proposta Shalelu per accompagnarvi e Kay però si intromette sostenendo di voler venire a tutti i costi penso che sia una decisione che aspetti a Tauno in realtà la decisione aspetta a Kay Tauno è solo il suo maestro almeno è lui che deve decidere se è pronto per quanto mi riguarda Sensei io io voglio dare le mie abilità voglio non pretendo di combattere necessariamente un primalino con voi ma voglio osservarvi voglio vedere come agite devo impiare davanti a lui davanti a lui proprio imponentemente ok non prepotentemente però imponentemente lo fisso negli occhi mi faccio guardami negli occhi adesso ti ricordi l'uomo che ti aveva chiesto di edempiere quel compito di seguirci e lasciare il resoconto su quella botte lui scrolla le spalle intanto io do con la mano a taglio una botta in testa ahi perché secondo te quanto può essere pericoloso abbastanza pericoloso da rendere quella scrollata di spalle la tua condanna a morte o così poco su poco pericoloso un un brigante qualunque da poterti permettere una scrollata di spalle pensando a colui che ti ha chiesto di seguire noi colui che governa quei corvi colui che governa la città nell'ombra questo questa regione nell'ombra io non non so cosa rispondere senza se non che se dovessi trovare la morte sul campo di battaglia sarebbe in un certo senso onorare la vostra vita sorrido però amaramente gli do un'altra botta in testa nello stesso modo lui incassa nuovamente frustrato la tua non è una morte necessaria non sei ancora un guerriero non sei ancora un samurai non porterebbe alcun onore permettetemi di imparare io voglio voglio osservarvi permettetemi almeno di venire con voi quando allestero sarà con noi e non sarai più alla portata della sua vista shalelu ti mettono la spalla tauna su calmati non c'è bisogno di alterarsi così tauna no ma guarda io la guardo con uno sguardo tranquillo e faccio capisco quello che intende shalelu lo capisco bene anch'io volevo andare con il mio maestro l'ultima volta il mio maestro non è tornato perché il nemico era troppo forte ed è stato il motore no scusa il motore non è una parola adeguata per il contesto è stato ciò che mi ha spinto a crescere e migliorare ancora di più e ora sto onorando il mio maestro che mi chiese di non mettere a repentaglio la mia vita in uno scontro in cui la mia abilità non sarebbe stata sufficiente a rendere onore né a lui né a me stesso lei ti guarda con un'espressione quasi di scherno ma amichevole capisco che in questi mesi siate cresciuti molto sia fisicamente che psicologicamente è incredibile come progrediate così in fretta ma non ricordarti non scordarti una cosa a tauno non scordarti chi sono perché potrei affrontarti e perderesti quindi se ti dico che sotto la mia ala ok è al sicuro significa che sotto la mia ala ok è al sicuro lasciali una possibilità a tauno lascialo venire lascialo osservarvi da vicino non dico che debba combattere al vostro fianco ma quantomeno che vi osservi quando tornate ma fuori tutta la battaglia che vi osservi come studiate le tattiche per assalire i nostri nemici devi imparare no? e qui al campo non imparerà un bel nullo se posso dire la mia io l'ho imparata a pugni la lezione quindi ma tu non sei un samurai Akira e nemmeno Shabelo beh le vie sono infinite voglio dire magari si parte da samurai e si finisce Akira una gran fortuna devo dire bisogna perdere molta disciplina per diventare Akira beh no forse disciplina non è la parola giusta d'altronde tu ne hai abbastanza anche parecchie Kei sembra che i miei compagni credano in te forse più di quanto vorrei non prenderla come una sfiducia nei confronti di un allievo ma hai iniziato l'addestramento da samurai solo ieri ho visto le tue capacità e quantomeno posso sperare che se le cose si fanno oltremodo rischiosi saprai scappare e non sarai così stolto da rischiare veramente la tua vita inutilmente Kei annuisce un po' riluttante vi ringrazio per la possibilità che mi concedete sensei non vi deluderò annuisco annuisco appena un accenno poi gli porgo la Wakizashi lui strabuzza gli occhi per un attimo inginocchia TK lui si si porta a terra con entrambi i ginocchi e si trostra di fronte a te io mi inginocchio davanti a lui sempre nella posizione classica dei samurai questo non è un dono è un prestito ed esigo che tu me lo restituisca di tuo pugno e non voglio assolutamente prenderlo dal tuo cadavere questa è averla sussurrante mi ha accompagnato molto tempo ormai è forse la prima lama superba che ho potuto vendere quindi che sia per te la stessa cosa come mio discepolo quando sarai un samurai sul mio onore ti giuro che questa lama sarà tua per ora tienila come monito e ricordati voglio che sia tu a restituirmela di tuo pugno che è un uisce visibilmente estasiato eppure però con un'espressione di contenuto stupore mista rispetto prende tra le mani la spada in modo molto cerimoniale fazioso certo però un po' erroneo lui non conosce la procedura non conosce l'iniziazione né tantomeno i modi di fare dei samurai eppure però si sforza con tutta la sua volontà di eseguire al meglio i comandi che gli dai si inchina con la testa sono onorato di questo vostro prestito sensei vi giuro sulla mia anima sul mio corpo sulla mia integrità morale che questa spada ritornerà nelle vostre mani ma io permetterò al nemico di sottrammela annuisco poi guardo verso akira guardo verso aiden verso meiko questa spada riguarda tutti quindi adesso sei un fratellino mi avvicino al vicino a kei e fa vedi tuo fratello grande akira non è così preso male come town quindi fai il bravo non ti buttare davanti a cosa che non puoi uccidere e soprattutto non c'è onore nella fuga però non c'è neanche onore nella morte stupida quindi si può sopravvivere sapendo di essere fuggiti per combattere un altro giorno da morti non si può non si può più fare niente quindi pensaci due volte prima di prendere un combattimento che non puoi portare avanti io l'ho imparato nella brutta maniera tu potresti fare diversamente tu potresti seguire il modo in cui l'ho imparato io lasciamo stare le battute se no ricominciamo beh è ora di cominciare a pensare a partire signori avete un'idea totalmente fuorviata di me meno male non ti ho visto in azione in po' si inserisce nella discussione a tal proposito io come stavo dicendo in precedenza avrei un'idea sulla votazione della rupe del corvo da quello che so si trova sotto di Carlsgaard più o meno a due giorni di cammino sui colli scoscesi nei pressi della della foresta di com'è che si ah della foresta dei gruggers sapete ehm quell'enorme foresta primordiale si trova giù in qua verso la parte sud dei regni di sicuramente se siete venuti dalla Avarisia l'avrete quanto meno costeggiata sì immagino Sandro ti guarda rassegnato l'Akera ti annisce con la testa dai lo sapete che non sono propriamente un genio di geografia tu non sei un genio basta regarawash anzi penso che tu sia un po' ritardato beh succede quando uno ha dei pugni così grandi e non ti dico il resto avrei voluto fare una battuta su sai non sei caduto da piccolo e hai battuto la testa ma in realtà l'hai fatto veramente bastardo sì però peccato che c'erano le corne in mezzo quindi non mi sono fatto niente come potete vedere in po' è una situazione abbastanza normale questa di discussione comprendo dovrò adeguarmi i vostri costumi è arte sbaglia Aidan non si sono ancora picchiati quindi non siamo ancora nella quotidianità è arte questa è arte della retorica no prenderti per il culo sandro sì tanto spirituoso guarda che non vengo lì a farti il culo solo perché adesso devi partire per quella sta questa missione del cazzo perché ti giuro sul mio cadavere che accidenti ti farei dei buchi così grandi nel corpo che non riusciresti più a muoverti per 20 giorni tu non vedi l'ora di fare buchi in qualsiasi cosa si muove sandro sei peggio di town lui scrolla le spalle sorridendo almeno io ci riesco mamma mia aspetta che mi devo sdraiare perché non riesco più a ridere town guarda che sta volgendo a te non è di volgendo se non ridi poi lo fai sentire in colpa se non ridi ma non sarebbe divertente nemmeno se tu ridessi senza denti se no poi si nota che le sue battute fanno cagare sandro si vi osserva sono letteralmente sdraiato per terra tipo angelo della neve cioè gli ho detto che mi devo sdraiare perché non riesco a ridere va bene va bene parlate pure quanto volete intanto io vado a farne una bevuta come al solito cerca di avere ancora un fegato quando torniamo sarà difficile forse tornate entro stasera potrebbe essere ma non ne sono sicuro la mecca mi guarda in seria io resterò qua gestirò la soluzione alla carovana mi assicurrò che tutti stiano bene per diverso Koya immagino che abbia votato di far muovere l'intera carovana si com'è che l'ha presa beh non particolarmente delusa secondo me è molto oscialla Koya ma si dopo tutto non è che sentono il bisogno di lanciarsi nella morte si si dopo tutto sai comunque poi soprattutto quando ha sentito che si trova solamente a due giorni di cammino a piedi e invece Walthus cavotato Walthus è venuto di rimanere qua chiaramente Kilda Kilda non c'è Kilda non c'è il taschino di Aydan alla fine si Ager balla sta in testa quindi siamo a posto non voglio anche io ci arriveremo sarà tipo una mutanda esatto la mutanda sulla testa la Meiko riporta la serietà nel gruppo e vi si avvicina una alla volta si avvicina a te per primo Akira e ti osserva ti mette le mani sulla spalle cioè quantomeno ci prova cara lei è molto più bassa quindi le alza di molto per sorreggersi vabbè mi abbasso io voglio dire sì ma questo è ciò che succede all'inizio poi tu quando capisci ti abbassi lei ti osserva negli occhi mi raccomando torna sano e salvo non fare cavolate non fare prodezze inutili vedi di cavartela come sempre senza farti troppo male c'è un modo in cui vorresti farmelo ricordare meglio gli faccio un sorriso assolutamente da struda da idiota a duecento denti lei ti osserva per un attimo sorridendo sia in maniera complice che imbarazzata vediamo poi poi dalla praticamente da una delle sue tasche prende un anello un anello con un sigillo d'oro questo questo anello apparteneva a mio padre e il mio rapporto con mio padre è sempre stato di duplice natura conflittuale e al tempo stesso però amoroso sì beh amoroso nel senso avete capito non sensuale proprio per questo motivo non sono mai riuscito a disfarmi in questo anello un po' potremmo dire che mi perseguito e in realtà però ci tengo è una parte di me è stata mi ha accompagnato durante le mie avventure le mie prime avventure con Sandro e adesso voglio che lo abbia tu ma non definitivamente voglio che tu lo costruisca che tu me lo riporti quando tornerai san e salvo da questa missione questa missione sta diventando sta diventando una missione di riportare oggetti apro la mano ti dà una placca sulla spalla sorridendo facciamo che facciamo che te la tieni e basta le punto un artiglio sotto il mento così io pensavo a qualcos'altro però magari quando torno lei piace le braccia prendo l'anello sorridendo e me lo metto sul corno me lo faccio scivolare sul corno fino a dove ci sta si beh non va molto in giuri ho paura che lì potrebbe cascarli qua sono le mani enormi quindi anche volendo poi me lo metto la bandana me lo metto a una colla tipo esatto infilato nella bandana o così si quella che sta sul corno lei scoppia a ridere stai diventando sempre di più uno zingaro varisiano ho bisogno di molti più orecchini d'oro sandruti guarda è laggiù era laggiù in uno dei dei carri si era si era scostato prima dall'accampamento tipo si sporge dal carro se vuoi te ne faccio uno bastardo no sono serio comunque Akira guarda qua quanti orecchini ha fallo mi piacerebbe portarne uno allora quando torni alla missione ci pensiamo intanto adesso vai vai e lasciami bere accidenti a te comunque mi preparo per andare insomma a me ti dà un bacino sulla guancia molto fugacemente non c'è un po' come è successo altre volte ecco poi si porta verso Tauna mi raccomando Tauna tu assicurati che Akira non faccia cavolato lo so sei un samurai hai i tuoi concetti d'onore però al tempo stesso so che posso contare su di te so che posso contare sulla tua protezione nei confronti dei nostri amici sei un po' il mio scudo metaforicamente rimango in silenzio sorrido annuisco faccio un leggero inchino marziale più che altro si per te Tauna non ho un anello ma voglio che tu prenda questo pugnale come simbolo della fiducia che ripongo in te certo non è di alcun valore se non simbolico io metto una mano sul pugnale come come a rifiutarlo ora guardo faccio un sorriso della mia imperatrice sarà più che sufficiente tornerò per averne un altro lei sorride arrossendo visibilmente come vuoi Tauna si sposta verso di te Aiden ti asserdo tra tutti Aiden sei quello che ad oggi rimane più misterioso in disparte vorrei che ti aprissi un po' di più con noi certo a volte non parli completamente e altre volte invece fumi l'oppio con coia e impazzisci però sono dettagli ecco vorrei questo questo è il mio segreto quindi per essere più stacevole il tuo segreto è drogarti si in soldoni si beh se se ciò è necessario provvederò a fornirti una grande dose di occhio quando saremo in un grande partita solo per te non vedo l'ora ahi danno assicurati che ta1 si assicura che akira non faccia cavolare povera shockameiko io sono due passi davanti alla morte mi ricordo mi ricordo quella volta aspetta di cosa stiamo parlando non mi viene però mi ricordo una volta si ok immagino e non so ho fatto un sogno strano forse c'eri tu gigante faccio questo effetto alle donne possiamo evitare di parlare di cose enormi dunque si bene dato che questa cerimonia si trasforma in un separietto come al solito così Aiden temo che i doni siano finiti forse dovrò riciclarti il pugnale di tavola mi assicuro che si assicuri di riceverlo no sto scherzando stupido ti da una una boccetta è piena e vuota si è piena questa pozione potrebbe tornarti incomoda grazie qualche consiglio su come usarla lascia che ti guidi il tuo cuore Aiden no scherzo ma secondo te è stupido è una pozione di di cura molto potente d'accordo non la userò e ti dimostrerò che non serve lei annuisce allora dunque riportamela perché costano anche della testa adesso andate forza mettete i cavalli a noi qua non serviranno farete prima perfetto Sandro si scorge ancora dal carro ciao no vedete proprio l'ora montate montate in sella voi tre Shalelu Kay e chiaramente Elger va sul capo di Taunos e Spivey nel taschino di Aiden appena siamo un pochino lontani guardo la pozione dico maledizione questo non è un regalo questa è una sfida beh ma anche il resto è una sfida di cercare di tornare interi già cosa che non posso assolutamente assicurare parli tu Akera io devo assicurarmi che tu torni intero beh io sono a monte di tutta questa storia quindi mi sa che te l'ha messa proprio in quel posto a te Aiden va che i bravi vabbè sei tranquillo io torno sicuro Shalelu ti guarda fortuna che a me non ha detto niente che è l'ingrata figurarsi che la conoscevo prima che voi nemmeno la contemplaste sì non eravamo ancora nati e tutto quanto no beh quello no perché sai Shalelu in ogni caso no American in ogni caso è più piccola di voi sì infatti nel senso magari si fida di te ma bisogna di darti raccomandazioni scusa Akira era una battuta a volte mi sfugge il vostro amorismo umano così così strano dozzinale ti prego fai l'elfa ma non mi si addice molto in questo stereotipo che che si affidia agli elfi eppure però a volte chiaramente mi sfugge la vostra retorica umana in ogni caso sarei meglio mettersi in marcia allora come ben sapete la rupe del corvo si trova a un giorno di cammino a cavallo a sud di Kalosgard due a piedi il sentiero attraversa un tratto paludoso a sud della città disseminato di piccole chiazze di vegetazione e altre altre argillose a sud è visibile la linea grigiastra delle colline rocciose e la foresta verde si stende oltre di esse come come state camminando in questa in questa radura argillosa e paludosa il sentiero sembra snodarsi tra il verde e degli acchitrini in questo in questo specifico tratto in cui appunto si trova la palude costringendo un pantano da cui spuntano vari giunchi ondeggianti e dove uno scuolo di minuscoli fiori sgargianti cresce sulla superficie dell'acqua è un dettaglio peculiare perché in questo periodo in questa zona è la prima volta che vedete un fenomeno simile tra l'altro fa un freddo porco ci sono i fiori col freddo corpo nell'acqua esatto e glielo faccio notare subito fiori che crescono nell'acqua gelida che fiori sono magari sono magici penso che siano fiori bene in risposta a chalelo vi fa notare che potrebbero esistere delle specie di fiori che si sono adattati ma rigido di karlsgard anche se è improbabile che in questo periodo dell'anno ne crescano alcuni lei perlomeno non conosce c'è alcuna specie di fiori che che fioriscono appunto in questa stagione magari c'è qualche sorgente calda potrebbe essere ci passiamo vicini si praticamente accanto al vostro al vostro percorso al vostro sentiero scendo da cavallo e vado a sentire l'acqua con la mano questi problemi sì devo capirlo tirami iniziativa Akira eh tira volontà vai a raccogliere fiori fratello tiratemi tutte iniziativa cosa tutte iniziativa materiamente si Akira che cazzo fai mi immagino sto tizio che scrive sul manuale sta cosa e pensa no ma nessuno cadrà mai in questa trappola mettete i vostri personaggi sì vi faccio il laghetto wow anche il colore dell'acqua non è esattamente naturale certo se me l'avessi detto prima che era viola ok ok beh fa uno sì beh in realtà mi dispiace ma semplicemente vedi avvicinarsi Akira a questo a questo laghetto un percezione non avrei sì puoi fare dai per un tiro basso almeno ci coniamo la trappola vai noti diversi giunchi nel scusami nel nel laghetto niente di strano oltre ai fiori allora posso farlo anche io un tiro perception tipo ok stessa cosa per te allora lo faccio anch'io solo per fare meno due invece no stessa cosa stessa cosa per te hai dan beh tu Akira ti avvicini al laghetto per ispezionare meglio questa inusualità d'un tratto una massa in forme di color giallastro spunta fuori dal laghetto non non ti aspetta non te l'aspettavi sicuramente così vicina così improvvisa tant'è che ti salta quasi addosso quanto hai presa la sprovvista beh direi di sì 18 18 questa gelatina arancione anzi più giallastra in realtà ti sembra saltarti addosso ma fortunatamente ti fa indietro porti il tuo guanto scudo in avanti e pari l'ondata melmose che ti si riverta addosso voi rimanete quantomeno attoniti per ciò che sta succedendo dopo tutto chiaro era una situazione non usuale fiori in questo periodo dell'anno ma non vi sareste certo aspettati una roba del genere spuntare fuori dal laghetto e assaltare Akira vai town nel frattempo i cavalli di Shalelu e di Kay che non erano ancora scesi si sono imbizzarriti e stanno cercando di prendere il controllo vedete che stanno galoppando qua attorno soprattutto Kay sembra avere dei problemi e Shalelu sta cercando di aiutarlo quindi non sono a cavallo giusto? no siete scesi ok è una massa informe non so nulla sulla massa informe giusto? almeno che tu mi faccia una prova di dungeon si la carico con la mia katana di ferro freddo e sperando che serva qualcosa anzi fammi vedere un attimo no cazzo non ci arrivo lì qui vabbè la carico dritto per dritto ma non puoi mi fai un passo non è abbastanza spazio fa un passo di un metro e mezzo va bene nel senso che faccio il passo nel era nel senso era che faccio il passo nel vedi si prende e fa esatto si dà la rincorsa come una molla e poi parte e poi parte verso la gelatina con la spada alzata verso l'altra sguinata vai tirami ayonimaru yeee però almeno è coerente almeno è coerente quindi sarebbe 12 beh chiaramente la gelatina non sembra avere così tanta agilità da poter schivare il tuo colpo la colpisci in pieno la taglia a metà al che per un istante pensi di averla avuto la meglio pensi di averla eliminata ma entrambe le gelatine continuano a muoversi oh no ah interessante effetto delle armi da taglie su queste bestie ci rimango piuttosto male ok vai ayon conoscenze dungeon conoscenze dungeon è un moose immaginavo sono sono delle creature amorfe mutabili generalmente senza senza mente con inizione puoi farmi no ok è una melma anche il genere di melma in che senso che genere di melma a che specie appartiene ah si scusami è una una gelatina una gelatina ocra è così che viene classificata nei bestiali di fame internazionale che tu hai avuto modo di studiare chiaramente si ok capacità difensive strane capacità difensive potremmo intenderla anche quello che hai appena visto hai appena visto armi da taglio e e da perforazione e attacchi elettrici non non danneggiano per niente questa gelatina anzi come vengono colpiti in un attacco del genere si divide in due continuando chiaramente a a combattere a sopravvivere ecco l'unica modo per danneggiarli con mezzi con mezzi mondani sono le armi confundenti ok vulnerabilità invece vulnerabilità non ne ha vabbè immagino a parte con i minori delle melme si e attacchi speciali e cose di questo tipo allora il suo la sua conformazione il suo il suo apparato è fortemente acido quindi è possibile che faccia ingianti danni sia alle armi che alle persone però non è immune all'acido o resistenza all'acido no ok va bene anche perché si intendono tipi diversi di acido si si ok faccio un passo tattico lì e poi uso una bacchetta insomma la bacchetta quella di raggio lovente per colpirne una nel frattempo avverto gli altri dico tipo aspetta un po' tiro raggio lovente perfetto usate i pugni queste cose si potenziano se colpite con spade o fulmini il retrieve di un oggetto dallo zain è tipo azione di movimento no? si Aiden punti la bacchetta molto velocemente verso la mailman un raggio incandescente che quasi sembra scottarti sull'impugnatura sulla mano stessa parte e si scaglia sulla gelatina che chiaramente non lo evita un buco si forma nel sul sul suo corpo amorfo quasi come se la gelatina si sciogliesse e lasciasse spazio al calore intenso ok Akira sto pensando faccio un passo qua ma banalmente i tuoi pugni non fanno ah fanno contundenti si fanno contundenti si no ma volevo abilitare tauno a fargli qualcosa o forse no no quelle gelatine rimangono lì immobile probabilmente cioè attacco vai accendo dragon style si uno due preso no primo accidente se non fosse uno l'avresto preso amo 4 in CA sta roba attacco quello che ha attaccato idem per primo perfetto praticamente fulminamente un singolo pugno sulla gelatina il tuo corpo si buona buona la prima il tuo colpo sembra letteralmente risuonare sul sul corpo della gelatina che si si disgrega parti gelatinose schizzano e volano in aria praticamente come il tuo colpo viene portato a segno vedi questa gelatina che inizia a vibrare poi si scompone completamente schizzando da tutte le parti l'altra gelatina è tutta risposta molto lentamente però va ad inglobarti la gamba ah aspetta si non ho detto prova ad inglobarti la gamba ma i tuoi riflessi sono di riloggi superiori e fai banalmente un passo indietro evitandolo schifosa eh oh vi sembra quasi una scena comica in realtà a parte lo spavento iniziale della gelatina che con uno sprint quasi sovrannaturale esce fuori dal laghetto adesso modalmente potreste prendere i cavalli e andare via senza che che possano far niente io vedendo la scena dico ci deve essere un errore non ho ancora castato velocità vai se io volessi usare la spada rinfoderata no farebbe contribenti è un'arma improvvisata cioè non ha senso non avete una massa sì che ce l'ho ce l'ho nello zaino io tauno nel mio zaino c'è una mazza contacomazione da movimento estrarre le mazze dallo zaino di akira sì lo guardo e faccio solo per questa volta akira mettimi la mano nello zaino presto infilo la mano nello zaino di akira ed estraggo la mazza no tu l'altra mazza l'altra tasca nel frattempo sullo sfondo i cavalli di chalelu e kai si sono calmati chalelu è riuscita ad abbordare il cavallo del piano del giovane ragazzo e a bloccarlo a rassicurarlo perfetto intanto tu è una mazzata è una mazza di akira è una mazza normale giusto ma se tira il ma non è una mazza normale è una mazza più uno col d'iron pur sempre allora è 16 per colpire vabbè ma tanto bastava 5 cioè 4 quanta che fa fa un d8 più la tua forza se la impugno domani cosa che ti consiglio fa una volta e mezza la forza esatto più anche uno hai detto perché più uno è magica ah si è magica in realtà ci sarebbe anche power attack quindi c'è ci stanno due danni in più 13 totale no aspetta 3 danni sono power attack adesso 6 danni in più eh infatti sono 6 danni in più perché adesso siete al siete al 4 si io c'ho più 3 ancora d'attacco base io c'ho ancora più 3 d'attacco base quindi è normale ah è vero sei war priest però hai più 3 invece che più 2 eh vabbè saranno 14 perfetto 14 vai Aidan ok visto che abbiamo un nuovo bersaglio sappiamo tutti cosa sto per fare disgregazione temporale esatto posso fare ah no ho fatto l'azione del movimento ah si posso fare il passo tattico si mi cavo dal cazzo prima che cosa tiravola a fare praticamente come vedi Aidan che inizia a incrociare le mani nella sua solita maniera per lontare il fattolacido transdimensionale tu preso da una fitta di paura perché ipotizzi che crolli l'universo ti fai indietro però sfortunatamente dalle madi di Aidan non esce niente fa anche il rumore di cilecca beh più comunque non si c'è nulla mi mi scoppiettiva vai Aker no in realtà non succede niente va con niente lo riesce sempre adesso Aidan che fa vaffanculo si esatto lo floro schifo lo floro schifo perfetto due colpi mani aperte come tu a solito in realtà disgreghi violentemente a forza la la melma praticamente le infili entrambi dentro e la la dividi a metà e poi inizia a sbatterla per terra fino a quando non si discrega una tecnica sopraffina veramente gli porgo la mazza no no tienila la mazza non si sa mai nel frattempo ma nel frattempo mentre tu stai corriendo e se parlando tranquillamente stai ancora sbattendo a terra la melma era un modo come un'altra ordine può bastare credo sia morta come fai a capirlo se è morta non ha gli occhi non è che respira effettivamente non si lascia bene ripirata ma quando non si muove più intuiti che sia morta mi avvicino si immagino che sia morta o sta fingendo però boh non penso faccia di pietra posso posso chiamare la matta tipo non lo so smazzamenne beh si può sminuzzarla voto si 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 smazzamenne una melmazza la melmazza perfetta le mie scuse compari i cavalli evidentemente non erano preparati neanch'io ero preparato neanch'io ero preparato neanche loro evidentemente non erano particolarmente sveglie e pure però ad un ad un avventuriero meno capace meno sagace potrebbe sarebbe potuta finire direzze niente diciamo così guardate lì in mezzo ai giunchi nel fango voi osservate dove esce la lumi indica una cosa che non avevo notato prima vi sono un teschio e una spina dorsale umani nascosti nel fango insieme ad esso sul sul rimasuglio del collo vi è appesa una collana sporca che ripulita rivela un argento sopraffino con nuove perle nere incastonate con l'ano se volete valutare vai è fatta è falsa beh sì non ho mai idea di quanto potrebbe valere semplicemente però siccome non sai di che tipo di di pietre stiamo parlando quindi non hai proprio idea un po' se sciolelu hai idea mai vista delle problemi nere sciolelu lo guarda ma così ad occhio croce potrebbe valere quasi mille monete d'oro già non è bello collano molto molto bello ti piace sciolelu sì infatti prendila gliela porco no no piuttosto piuttosto non saprei braiso non fare l'elfa esatto non fare l'elfa come pensi che ci siamo procurati il nostro equipaggiamento non è il mio stile regalatela regalatela da meiko lei piacciono un sacco questi piatti da te sì ma il meiko tra poco non riuscirà più a muoversi da tante appaccottiglie che gli abbiamo regalato che le ho regalato perché dimora a sandro mi sembra tipo da mettere questi gioielli hai ragione la tolgo tipo da chalel a cui la stavo porgendo dimora la chassando oddio in realtà ve la potremmo aprire da questa parte faccio il gesto di romperla per farla diventare un filo unico di perle così ci si potrebbe divertire no sandro non davanti a key e sandro e akira key deve imparare ci pensa già il suo maestro insegnare le cose sbagliate sentite sta andando troppo avanti questa cosa ragazzi non ti rendi conto che sarà tipo la battuta ricorrente per i prossimi 10-20 anni forse dovrei veramente iniziare a tappare qualche buco non credi or dunque prodi avventurieri penso che ci siamo dilungati abbastanza con queste gelatine indegne del nostro valore dovremmo avanzare verso la rupe ed espugnarla dai nostri nemici l'elmo chiaro mi do un'occhiata in tasca sempre al momento giusto bene andiamo allora tu hai da metti le mani in tasca e tipo senti un urlo soffocato no no non è che metto le mani in tasca è che do un'occhiata in tasca ah ok però attenta avevo detto che comunque tocchi tocchi la tasca per sentire se c'è come quando no nel senso tipo la apro per vedere se c'è apri e spybit guarda con un'aria un po' scherzata eh che c'è sono sonorizzate le mie tasche chiedi un po' stavo quasi bene qui così quasi mi appiso va bene le farò foderare in qualche tessuto speciale vedo che ci capiamo d'accordo spybit è venuta con noi vero? si si certo venuto voglio dire non è che abbia partecipato molto fino adesso però beh dai avrà modo di rifarmi d'accordo metto via la collana da mille monete d'oro perché tanto non la vuole nessuno perché è orribile quindi saliamo di nuovo sui cavalli ma vi rendete conto della ricchezza d'animo mille monete d'oro così si si mille monete d'oro in una collana cioè bene allora aspettate le colline si fanno stretta gola tra due pareti rocciose è visibile una fortezza di legno e pietra dotata di una torre ingregita e consumata al tempo la fortezza si trova quasi a 30 metri d'altezza rispetto alla base della rube è soltanto una scalinata di legno che sale zigzag lungo la parete rocciosa conduce la sua porta principale il silenzio circostante è interrotto soltanto dal rauco cracchiare dei corvi che si ammasse nel cima della torre della fortezza e al colmareccio sovrastante ebbene siamo arrivati se quella non è la rocca dei corvi diamine sto cominciando veramente ad odiarli i corvi già dannate bestiagge beh forse è ora di guardarsi meglio intorno direi ci sono tracce in giro di altre diciamo del passaggio di altre persone o creature allora in realtà no nel senso così ad occhio non sembra che vi sia un anno di rivieni piuttosto comune come magari uno si potrebbe aspettare da un quartiere generale molto molto popolato eppure però le apparenze potrebbero ingannare chiaramente se avvicinandovi aspetta quante rampe 30 metri detto esatto 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 avvicinandovi alla scarpata notate che come avete visto dalla lontananza solo una precaria scalata di legno conduce lungo la parete rocciosa fino alla roccaforte situata sopra vi sono più o meno sei tornanti di questa scalinata che comunque dovete immaginarvela attaccata alla parete cioè fa zizag attaccata alla parete tipo le scale antincendio dei graffi si esatto esatto in alcuni punti le scale pianorottoli sono assicurati direttamente alla superficie rocciosa mentre in altri sono appesi a travi e contrafforti di legno piantati nella roccia da ciò che vedete sia le scale che le rocce sono ricoperte di muschi e licheni mentre dalle varie crepe spuntano ciuffi di rampicanti radici germogli di bella donna epilobio e tè di palude difficile che questa strada sia usata per trasportare carichi magari c'è una le scale partono esattamente cioè dallo stesso piano dal cui siamo noi cioè si dal terreno ok quindi non c'è non è che vanno giù in un buro è chiaramente l'ingresso no 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 è chiaramente l'ingresso principale ed è a quel che vedete anche l'unico ingresso perché da come è posizionata la rupe la fortezza sulla rupe vi dà tutta l'aria di essere fatta apposta per avere un ingresso del genere poi da quel che sapete voi di fortezze e dalla vostra esperienza potrebbe esserci un'entrata segreta però chissà dove si trova ecco quello che viene in mente è che comunque una strada più fattibile per i carichi perché i rifornimenti della fortezza se no come li trasportano su cioè questa poi non sembra nemmeno una strada battuta o la fortezza è vuota da tempo da molto tempo oppure c'è un altro passaggio quando abbiamo letto della fortezza loro hanno trasferito soltanto denaro non beni cioè non parlavano di beni sì è vero magari magari hanno trasportato solo bauli d'oro bauli d'oro su delle scale di porto ma poi tra l'altro un carico può essere nel senso che uno schiavetto ti porta 50 volte le casse a mano su e giù voglio dire alla fine il modo per trasportare il problema rimane che anche se adesso è in disuso e viene usata tipo magazzino dell'oro beh prima non era in disuso quindi comunque un passaggio per i rifornimenti solidi seri ce deve essere cioè questa è l'impressione che ho io sì è una buona osservazione è una buona osservazione quindi in gioco senti facciamo una cosa ma allora l'Europa è su un pian cioè su un'altura nel senso che sì aspetta i lati aperti cioè quanti lati ci sono aperti uno su quella delle scale e quindi è sopra un crostone di roccia oppure è su una scusa un attimo guarda un attimo la macchina noi siamo tipo come spiego e qui c'è la scala no posso spiegare ti spiego posso allora immaginate una parete rocciosa che si staglia di fronte a voi ok non c'è non c'è non c'è nessun ingresso in questa parete rocciosa l'unica cosa è questa rupe che è incastonata in un buco potremmo dire in una gola della parete rocciosa ma questa gola non si estende fino al terreno capito è stata proprio incastonata lì quindi c'è questa parete rocciosa alta 30 metri che è invalicabile l'unica cosa che potete fare è salire sulle scale dovete immaginarvi un po' la barriera di Game of Thrones con le scale che salgono sopra esatto una cosa del genere tipo qui sopra sarà incastonata la la fortezza e non c'è modo di arrivare qua sopra ma così l'ha fatto Akira la fortezza qui arriva a pari livello diciamo quindi qui diciamo è continua si esatto l'unica cosa che potete fare per salire sopra è o arrampicare sulla roccia o salire per le scale ok quindi non c'è un'altra cosa intelligente tipo da fare nel senso aggirarla questa scarpata no anche perché questa scarpata fa parte di una catena collinare rocciosa che si estende per molti quindi ragionando non è detto che dall'altra parte comunque della fortezza non ci sia un ingresso solo che noi non possiamo arrivare esatto niente che divieti di pensare che ci sia un altro ingresso ma effettivamente chissà quanto dovete percorrere dove soprattutto perché potreste anche perdervi semplicemente senti io non so se si può prendere però se si può prendo il 20 se no il 10 è sopravvivenza voglio cercare tracce dei passaggi recenti qualcuno deve essere una doppia cioè non mi ricordo se il 20 si può prendere se no cercare tracce scusa non penso che si possa prendere forse il 10 si però sicuri che non si può prendere il 20 non credo che cercare tracce sia un'attività che possa portare dei rischi fisici secondo me non è un indie questa volta perché di solito il 20 si può prendere in attività che sotto stress cioè che non causano lo stress della morte cioè cercassi trappole sarebbe un altro discorso non lo posso prendere il 20 questo è come l'ho sempre interpretato io il discorso del 20 sulle abilità che causano meno pericolo non devi alzare sotto pressione e non deve causare un effetto il fallimento quindi cioè in realtà anche tipo si può prendere 20 anche su disable device da quello che sto leggendo no si può causare un effetto tipo che scatta la trappola se sbagli vabbè se ci deve essere la dicitura take 20 no sul discorso delle trappole è un po' più particolare magari se il fallimento implica in automatico prendere danno non possono prendere il 20 se invece implica un tiro salvezza allora nemmeno boh non lo so come funziona beh si dai tu prendi non c'è scritto niente di guarda allora faccio 23 a survival per cercare tracce di si cercare tracce di passaggio recente utilizzo delle scale o anche tracce dei rampini sulle pareti insomma di lì sulla base sto l'intorno ok beh in realtà cercando bene per quanto prima a Kito non non vi fossero tracce palesi riesce a individuare tra rami spezzati pezzi di asse inclinata magari per la per la per le termiti che probabilmente però vi è stata applicata una pressione sopra insomma un genere di dettagli simili che si possono osservare solo solo se si spende un po' di tempo riesce a capire che comunque questa scala è stata utilizzata non troppo tempo fa sicuramente non riesce bene a capire quanto però si parla si parla di periodo recente beh non ci rimane che salire allora ci sono tracce recenti quindi conviene comunque salire io non me la sento di fare la scalata e poi porterebbe via troppo tempo e fatica saliamo solamente la scala e basta tutto ciò che avrà l'ardire di venirci incontro farà la fine che farà speriamo non succeda non mi sembra una scala così solida da reggere il peso di uno scontro e speriamo che non succeda ad ogni modo tenetevi pronti hai Dan tu o hai qualcosa per aiutare a non spiattellarci al terreno al caso beh diciamo di sì potenzialmente potrei aiutarci però non tutti quanti voglio dire è un incantesimo piuttosto estremo come volare non qualcosa di semplice come caduta morbida o altre cose di questo tipo mi sembra giusto Argelvar io non posso fornire alcun aiuto su questo fronte ai propri avventurieri sono rammaricato la scala offre degli appigli che si possano utilizzare con una corda a parte che vabbè aspetta un attimo la scala in che condizioni è decrepita abbastanza come salite mettete i piedi sia le scala che i penerotti li cigolano sotto i vostri passi e uscilano in modo alquanto allarmante quando vi è anche solo uno spuffo di vento non è stato particolarmente utile ma potrei provare a usare le mie abilità per determinare il futuro ok perfetto potresti nel frattempo che lui fa i suoi magheggi io mi avvicino a Shalelu parlo piano sembra analitica dici che sarebbe il caso di farlo salire con noi o farlo rimanere qui e guardo ok lei lo osserva un attimo forse potremmo accamparci tutto sommato una vetetta che rimanga nelle retrovie vi farà comodo soprattutto se questa è una roccaforte utilizzata servirà qualcuno che tenga occupati i possibili possibili nemici che che vengano ulteriormente e potrei anche insegnare a Kay qualche trucchetto fa l'arco già che ci siamo scusa non ho capito non ho capito se lei intende rimanere indietro con Kay si si ma era chiaro anche da prima loro fanno campo qua sotto semplicemente si può può far comodo che sappia usare l'arco sicuramente se imparo ad usarlo meglio di come lo uso io gli sarà più utile ok l'azione di salire la scala ci porterà del bene del male entrambi o niente non puoi fare più specifiche dice un'azione dice aspetta esattamente dice se una particolare azione porterà buoni o cattivi risultati entrambi eccola lì chiaro in questo contesto qui auguri e dire un poco aiuto sarebbero divinazioni più forti si qui auguri se devi scegliere se mangia una mela o meno capito te piacerà o non te piacerà auguri comunque sia si riferisce a massimo mezz'ora nel futuro cioè se poi tra un'ora andar lì sopra porta a un pericolo auguri non lo consiglia però allora sapete che in ogni caso in un lasso di tempo breve la scala non è totalmente sicura quindi è già un vantaggio potrebbe sia portarvi del bene che del male confermo che la scala non è il sentiero più sicuro che esista tu praticamente Aidan mentre gli altri stanno dialogando a scegliere cosa fare ti metti un attimo di sparte e inizi a meditare a entrare in uno stato introspettivo in cui le linee del futuro si si mostrano di fronte a te sempre sotto forma di questo fiume in piena che si scaglia sulla roccia e tu ti visualizzi come te stesso su questa roccia che cerchi di pescare alcune di queste onde tiri su la canna da pesca e un fiotto un fiotto acquoso si si riversa verso l'alto le gocce ti mostrano il futuro ma sono confuse non riesci a capire solo l'unica cosa che discerni è la possibilità di un pericolo dato che questa introspezione agisce a livello emotivo più che la visione di un pericolo lo percepisce il pericolo è il tempo stesso però un'altra di queste gocce mostra una via sicura allora io faccio così mentre loro stanno meditando io faccio questa distanza sulla base della della roccia perché questa scala che va su così intanto mi pare tipo fuori luogo cioè non mi sembra che sia utilizzata da una gilda come rifugio e tutto quanto così decrepita così brutta cioè mi sembra strano cioè una gilda che ha riuscito a dispiegare una nave con sopra 40 persone un ingresso per la propria fortezza non può essere così malmesso nel caso serva veramente e quindi se non serve veramente o c'è qualcuno sopra con gli archi oppure si aspettano che qualcuno ci cada semplicemente quindi mi faccio questa lunghezza così cercare se c'è qualche ingresso segreto che non vediamo e prendo il 20 faccio 28 purtroppo però non riesci a trovare niente la cosa ti puzza ma su tutta questa lunghezza nei pressi delle scale non riesci a trovare nessun tipo di ingresso segreto ok io come ultima cosa allora faccio uscire spagli dalla mia tasca e le dico riusciresti a volare fin là sopra magari rimanendo attaccata alla rupa per non farti vedere anche semplicemente per notare se ci sono persone là sopra o mostri lei un po' scorciata amuisce con la testa certo che posso andrò a vedere personalmente e vi farò sapere spy vi spicca il volo verso l'alto e scompare piano piano dopo qualche minuto ritorno verso di voi dunque 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 le pareti di questa fortezza sono fatte di mattoni ok chi siamo qui molto bene e inoltre mi sono stancata molto e non volevo nemmeno venire ma lasciamo perdere e beh il tetto è composto da tecole di legno sembra sembra ben prestante ben tenuto abbiamo una torre che ha un tetto di paglia e cos'altro fuoco fumo persone animali umori niente di strano se non penso di aver visto qualcosa sul pienerottolo su uno di pienerottoli ma non ho ben capito cosa fosse forse si muoveva qualcosa all'interno in cavatura nella nella parete non non ho visto bene perché non mi sono avvicinata troppo avevo paura che mi scoprissero e inoltre se può interessarvi sulla torre vi sono tanti corvi tanti 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 io non ho capito tanti cosa corvi ah ok ok riapro la tasca invitandola a entrare se vuole lei sorride e rientra all'interno all'interno della tasca mancano ancora due minuti e mezzanotte lo so però mi metto in anticipo soddisfatta rientra all'interno della tasca cielo vi guarda beh noi ci accampiamo qua ho parlato con Kay non ricordo per quanto vi riguarda dovresti iniziare a prendere una decisione valiamo allora spiegami un attimo li guardo scusate prima li guardo entrambi i due che rimangono faccio un sorrisetto mi avvicino a Shalelu la guardo mi raccomando prenditi cura di lui e lo faccio col tonno di ameico vado da da Kay faccio tira su questa schiena cosa sono queste spalle basse il classico cagacazzi tipo pancia in dentro pettin fuori poi gli do una pacca sulla testa però stavolta gliela do gentile sei stato bravo fionino qui e annuisco lui sorride grazie sensei vi mostrerò di valere porterò avanti il vostro amore e vi coprirò le spalle e non farti ingannare non farti ingannare è molto più vecchia di quello che sembra lui scrolla le spalle beh ho sentito qualcosa sugli elfi su su forza forza ameico nel caso di si ameico scelare in un caso di pericolo una freccia hai una freccia infocata o qualcosa di simile per segnalarlo se qualcuno arriva da sotto secondo me se prima cacciare un urlo voglio dire non è che siamo così lontani oddio 30 metri in altezza beh che effettivamente in teoria si dovrebbe sentire meglio da si dovrebbe sentire meglio da sopra a sotto che viceversa vabbè comunque in un caso mi arrangerà voi adesso andate io cerco una posizione sicura che mi postrò lì annunisco comunque cominciamo a salire ma se mi spieghi com'è fatta la struttura ti posso dire ti chiedo se riesco con la corda di seta che ho nell'inventario a fare una imbraccatura di sicurezza da poter lanciare sopra la sopra la rampa che stiamo per percorrere in modo da assicurarla facendo la rampa fino a riprendere la corda e lanciarla di nuovo alla rampa superiore mi sono spiegato si ma in realtà non è una cosa fattibile ok ma comunque in realtà per quanto per quanto il penderotto e le scale scivolano tendenzialmente sono stabili ok comunque le scale sono marche più o meno un metro e mezzo perfetto sono ripide e sono leggermente scivolose Akira questa volta ti chiedo di restare dietro anche perché sei abbastanza forte da poter riprendermi se magari qualcosa arriva di soppiatto e mi spinge giù no comunque ci leghiamo in cordata ok perfetto ottimo quindi andiamo io Akira e Aidan come fila come fila tu davanti Aidan in mezzo e io dietro Aidan in mezzo ma se qualcuno da davanti mi arriva e mi spinge Aidan viene schiacciato tramite va bene ma cosa non ci facciamo a sottolineare andiamo comunque va bene era giusto sì va bene ma insomma una breve fila di scade sale fino a un pianerottolo che sporge dalla facciata della pari delocciosa in un piccolo incavo nella roccia è stato appiccicato quello che sembra un enorme nilo di vespe siete arrivati al quarto tornante al quarto pianerottolo enorme quanto un enorme quanto una sfera di fuoco quanto una creatura enorme ah minchia quella cosa è il più grande alveare che abbia mai visto già spostiamoci da qui speriamo che le api non siano diciamo proporzionate no ma saranno sicuramente milioni allora forse è meglio che siano proporzionate non lo so qual è la versione migliore hayden dimmelo quella dove non ci vediamo dal cazzo si tiriamo furtività non funziona tirate iniziativa non mi sembra la risposta giusta non preoccuparti lì c'era faremo ho trovato finalmente la scadinata chiamo i pompieri dal nido appicciocato alla parete mentre state discutendo un po' irmicamente fuoriesce una creatura alata che sembra un misto tra un granchio un ragno è una vespa è un essere più grande di voi che sembra intenzionato soprattutto a proteggere il suo nido fatemi arcana arcana è un bivore aragne è una bestia magica abbastanza intelligente la peculiarità di questa di questa di questa creatura è che fa crescere le sue uova all'interno di un ospite vivente l'incubazione dura circa sei settimane e dopodiché i giovani si fanno strada fuori dal corpo a morsi sapendo chiesto così no è Andy no non è Andy stavolta hai capito comunque si comunque ho capito sapendo che ha una certa intelligenza so anche se ha un allineamento particolare specifico no ok ha una certa intelligenza ma è comunque nell'ambito animale almeno va bene ci ha visto no comunque si ok non è molto più intelligente di un animale facciamo attenzione potrebbe attaccarci beh in realtà come salta fuori tu quasi non hai tempo a dire questa cosa che che praticamente vi balza addosso ah ma siamo lì Aidan vai tu aspetta adesso te la metto comunque davanti a voi cioè tu sei fin dietro vai Aidan eh ok ma non la vedo è lì davanti a voi adesso lo metto ah ok scusa pensavo lo volessi mettere ancora ammazza se fa perché mi hai spostato scusa ammazza se fa proprio cagare ecco ah ok va bene qui dove c'era l'alveare non ci si può andare no in tutta quest'area c'è la parete no ok da dietro Tauno provo a usare se riesco a colpire senza colpire Tauno sempre il raggio lo vente sulla di puntiva se necessario non so vai ok attacca raggio si sono difensivo ma in realtà no ho un metro e mezzo di portata ok il nostro comunque per descrivervelo meglio è delle dimensioni di un cavallo ha una testa d'aragna e un pugilino gigante e due lunghe zampe che terminano con delle cagli letale affilate undici no praticamente il raggio rovente va a cozzare contro la la corazza del mostro non riuscendo però a scalfirla è la scuola con dodici sarebbe entrato scusa si non avevo ancora aggiornato di HP scusa e allora niente praticamente tira fuori la bacchetta la ponte verso il mostro il calore senti il calore vicino al tuo orecchio Tauno ti rendi conto che un raggio è appena partito ti ha quasi sfiorato capirne se va a piazzarsi di fronte a te sul corpo del mostro il quale lascia andare una specie di grido se così potremmo dire un verso Rauko che non assomiglia a nessun verso animale che abbiate mai sentito molto molto forte ma le ali quindi si ha le ali può volare Akira con un passo di un metro e mezzo riesco a fare questo beh non proprio no non riesce perché è sopra questa distanza qua quant'è? ah ma non me ne fotte sega faccio così faccio il dragon il dragon jump qua ah perfetto praticamente il terreno sotto i tuoi piedi Akira inizia a crepitare le assi si fanno d'un tratto più morbide come se l'energia del tuo corpo spugionata dal tuo corpo le le corrodisse le bruciasse ti dai uno scatto che fa crollare il pavimento sotto i tuoi piedi e tu Aydan devi arreggerti al al cordone per non cadere salti verso l'alto un'energia bluastra nera ti circonda completamente ti senti vivo senti di sperimentare una specie di orgasmo in tutto il tuo corpo e fai schiantarti sulle scale sovrastanti vicino ma puoi schiantarti anche sull'unostro? si averti schianti sorprendente beh schiantarti proprio sopra il mostro ma mille attacco oh dragon style perfetto il danno è quello o devo di sei più perchè fa tre più quattordici si giusto non ero un di otto no si è un di sei 5 perfetto poi ero là anche un di sei un altro di sei bene bene e reflex about 14 13 cd13 allora praticamente ti butti sopra questo essere che stava cercando di alzarsi in volo ma lo lo blocchi a terra anche se non riesci a farlo cadere praticamente riesci solo a rallentare la sua panza che versi l'alto e lo colpisci in pieno proprio sopra la testa con prendi le praticamente congiungi le mani e dai un colpo dall'alto verso il basso sulla sua testa il mostro rugisce ancora questa volta visibilmente stordito dal tuo colpo e poi atterri vicino a lui ma non posso cercare di cavalcarlo a sto punto cioè tipo stagli in groppa c'ha le ali eh però dovresti fare grapple in realtà ok niente allora beh c'è nel senso se al prossimo round fai grapple possiamo anche dire che sei sopra e stai aspettando vai vai però praticamente si sei giunto su di lui con con le mani incrociate e stai cercando di afferrarlo di prenderlo per le ali per tenerti sopra di lui il mostro però nel tuo risposta si si scuote e ti fa cadere sulle scale quasi buttandone di sotto quasi mandandoti incontro a Tumac tutti venti metri almeno e si alza verso l'alto un breve scatto verso l'alto con le ali che che vi spinge all'inzietro e poi con i suoi sì chiaro con i suoi attacchi nel senso si è alzato verso l'alto ma non provoca vorrebbe provocare aspetta perché vediamo vediamo sì provoca in realtà aspetta sì se si sposta sì in realtà non provoca se lui non si toglie la sua aree minacciata lui si sta spostando nella mia aree minacciata esce da un quadretto provoca sì è vero però esce quindi provoca sì bene 15 ho airgrounds 17 e sì 17 preso perfetta praticamente il mostro si sta sta cercando di alzarsi in volo il paviglione puntato verso tavo un paviglione così grosso lungo quasi quanto ma potizzasci che sai perfettamente che se se si piantasse nel tuo petto non avresti possibilità di salvare chiaramente eppure però come come si alza in volo Akira prende un attimo di rincorsa si spinge fa perno sugli scalini sugli scalini su cui è situato salta verso il mostro con la mano aperta e in volo gli afferra la testa stritolandola facendola esplodere sotto la sua morsa letale e cadendo di colpo sul pianerottolo sottostante semanostro rotolandosi con esso che lo ha afferrato in preda agli spasmi alle convulsioni muscolari dalle della morte stronzo stati tutti bene non ha colpito nessuno no per fortuna no per fortuna Akira non gli lascia il pavimento il pavimento sotto di voi sta iniziando a cedere Akira fate meno prova di riflessi scusa c'è una piccola cosa che forse non abbiamo considerato non eravamo tutti legati l'uno con l'altro ci sono slegato ah ok sennò col salto ma te mi riflessi si allora ben numero tondo ah io c'ho ancora idea attiva vabbè 15 24 bastano tau no 10 ma in realtà mi sa che è 8 ah no nulla nulla no no non influisce tau no praticamente il terreno sotto i vostri piedi quello tu ti trovai molto vicino al mostro d'Akira inizia a crollare tu impedito dall'armatura non riesci in tempo ad afferrare ad afferrare una ringhiera vicina stabile e crolli fammi un'altra prova di riflessi stai cadendo a picco sotto l'altro piano piano pianerottolo attenzione è legato a me quindi mi porto dietro Aiden si basta Aiden non faccio la prova di forza ok la mia prova di forza è mentre faccio l'effettiva prova di forza qui applico il d20 che non si sa mai ok tiro vero la prova di forza nel frattempo dico tipo Akira fortuna che ci trattieni tu Aiden viene trascinato giù dalla forza di gravità di town che collassa verso il pavimento sotto cerco di afferrarli se posso non è il tempo perché tu praticamente ti sposti dal mostro salti verso la scalina superiore di qua per spostarti per non cadere di sotto e allo stesso tempo in istante in istante in lo stesso istante loro cadono di sotto praticamente circa 5 metri più in basso 4 metri e mezzo più in basso cadete sull'altro piano e rottolo che si sfonda anch'esso ma riuscite ad arreggervi alla ringhiera e e siete stabili per quanto il pavimento sotto i vostri piedi sia sia distrutto riuscite a rotolare sulle scale che danno verso l'alto e a risalire però fatemi una prova di acrobazia per vedere quanto non mi stai prendendo per il culo dì me che devo cadere di sotto ciao cioè no acrobazia per vedere quanto se ti riduci il danno semplicemente ma c'è un minuotto che riducono più eh vabbè per mettere entrambi sei danni un po' contusi dalla caduta e sicuramente traumatizzati riuscite a risalire sopra nel frattempo Spirey era uscita dalla tua tasca Aidan ed è in volo anche lei un po' segnata dall'evento i capelli scravigliati la faccina corcrucciata che ti guarda accidenti a te Aidan accidenti a me non sei stata l'unica trascinata in questa caduta ma potevi impedirlo lo vedi che non si può una nulla la fase è finita non mi sembra il momento comunque io mi li sto raggiungendo ma non ti conviene meglio se resti su almeno ci trai con la corda anche perché ci avremo un pieno rotolo in meno da attraversario lui cioè ce n'è uno che manca per ritorno su guardate se devo fare queste cose io sono solo una lì se adesso questa cecca sta a volare a tutti porca puttana la schiaccio sul muro divento lì e me me ne sbatto io sono una fatina il mio compito è alleviare le persone con il mio canto non fare queste scalate ok calma Spivey calma mettiti sulla mia spalla Spivey per favore tra le corna lei vola verso lei vola verso di te e si si mette a sedere sulla tua testa tenendo le corna con le con le manine piccole stai lì un pilota poi tipo inizia a battere con una di due manine sulla tua testa forza Akira forza corri di quello corro sei pazza cosa hai bevuto Spivey io sono il tuo comandante adesso va bene adesso gira le gambe e sali le scale io e Aidan fino a dove riusciamo a risalire ce la farei tranquillamente nel senso vi aiutate a vicenda e risalite sulle scale senza troppi problemi quindi torniamo in pari con Akira si continuiamo a salire state bene non molto forse questo tipo di combattimento non era proprio adeguato però almeno mi hai salvato quindi non posso recriminarti nulla sai forse la fatina che allevia questi dolori potrebbe alleviarli un po' meglio lei ti guarda si alza verso l'alto e inizia a spargere polvere di stelle su tutta la zona sono sono 10 danni danni curati quindi tutti grazie cara grazie guardate cosa mi tocca fare sempre che ti lamenti tu l'irakin che non sei altro io non sono adatta a queste cose voi vi trate a venire contro la mia volontà si infiati nelle tasche di Sandro l'unica cosa che farai è assistere alle sue bevute alle sue alle sue minacce alle sue minacce fuote e ai suoi buchi mentre state parlando con con spy salite le scale aspetta no questo è sempre cioè è il prossimo pianerò ok continuiamo a ripercorrerlo continuamente lì siamo in un loop temporale o sino un alveare facciamo questo 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 ampio terrazzamento sovrasta il precario conglomerato di scale ben troppi sottostante e offre una vista panoramica delle pianure paludose che si estendono fino alle brume dell'orizzonte la faccia incombente di peta grigia della fortezza impedisce di procedere oltre un grosso portone di bronzo protetto da pesanti persiene di ligno e toccato di feritoie per accello è l'unica via d'accesso al di sopra del portone altre feritoie si affacciano sul precipizio aspetta vi metto effettivamente due oltre stessi scrollate verso l'alto sulla mappa oh guarda dobbiamo andare là? si da che parte? qua su questo qua c'è l'altro davanti sareste qua praticamente fatemi percezione che difficile percezione percezione dei rumori provenienti dal pianerotto inferiore vi giungono all'orecchio come qualcuno che stia tipo battendo sul legno piano piano questi rumori si concretizzano e capite che qualcuno sta salendo dai bordi della ringhiera iniziativa iniziativa come vi girate per capire cosa stia succedendo dei tengu incappucciati con quelle cinture rosse e degli occhi fiammeggianti si palesano di fronte a voi come dei rapaci che si piombano sui loro vittime uno di essi blocca il passaggio sotto le scale altri uccellini da fare fuori che bello non pensavo di avere di nuovo il privilegio di farne fuori altri vai faccio un passo qua ok lo flurro a bestia con dragon style bello che bocca bello il flurry proprio mamma mia praticamente ti sposti velocemente verso di lui ma il tengu è elusivo tu cerchi di colpirlo e lui ti blocca i colpi con una forma di arte marziale molto molto ben prestante una di quelle che hai già visto nel monastero quando eri piccolo il tengu ti gracchia contro stupida temole ha parlato l'erede dell'umanità in mano porta portano wakizashi già squainata praticamente quando ti hai visto risalire dal dal pianrottero inferiore la rifà tra i denti cioè tra i denti figuratamente alzata dal becco con la sua mano destra prova un affondo di wakizashi e tu riesci a pararlo tranquillamente col tuo quanto scudo che lo deflette via e allora prova a coglierti impreparato cercando di beccarti ma non riesce il tengu dietro di te si sposta Akira lo senti arrivare una presenza alle spalle non fai in tempo a girarti per contrastarlo che senti la fredda lama ghiacciata nella tua schiena non è niente di più che un danno superficiale perché la tua armatura ha preso il colpo sono due danni l'altro tango invece sembra semplicemente bloccare le scale dai tauno si ho un attimo bene la disposizione che io ho solo trascinato il personaggio qui ma non ho ben capito lui sarebbe quasi qua però tipo sotto ah ok qui è basso ok abbiamo detto che un'azione io adesso non mi ricordo le cose c'è un attimo di vuoto allora se io volessi fare antagonize su questo e colpire questo non potevo si si posso perché non mi devo spostare si antagonize un'azione veloce puoi puoi ok allora faccio antagonize su quello che sta fiancheggiando Akira praticamente gli punti il dito e gli dici qualcosa non so tipo affronta un samurai mi dico qualcosa si più che altro tipo incrocia la tua lama con la mia vigliacco a chi qualcuno disarmato ci mettono una battuta così così faccio antagonize anche su Akira su un colpo solo e nel frattempo tiro giù prova tiro giù una bella spadata sull'altra bestia schifosa che c'ho davanti bella bella minchia si swap proprio lo praticamente aspetta però tu porti la spada verso l'alto una stenza alta e poi la cali verso la sua testa il tuo obiettivo sarebbe praticamente dividerlo a metà purtroppo però il tango si rivela più veloce il scaltro del previsto riesce a colpirlo ma solo parzialmente il suo sangue spilla per terra e su di te ma è una ferita superficiale Aiden puoi spiegarmi brevemente perché prima town era qui e il mostro qui e poi si sono invertiti perché se seguivi mi ha detto che lui in realtà è sulle scale più in basso vedi come sono fatte le scale si quando è verso il basso tu sei sopra di lui diciamo ah ok ok ma avevo capito infatti non capivo per quello quindi lui non può colpirmi no va bene allora mantengo la posizione e sulla difensiva casto punto sulla wakizashi di questo qui puoi selezionare un bersaglio del genere si un oggetto per fare in modo che gli cadi gli cada che gli cada si guarda dovete fare sempre i flessi cadi si è sempre il diverso io prima devo tirare concentrazione con il più 4 anzi facciamo una cosa tiro di 20 perfetto basta e avanza ok praticamente lanci lanci questa formula e dal niente una massa di una massa auliosa inizia a manifestarsi sulla wakizashi il corvo sì il corvo che tengo inizia a a perderla presa ma poi con l'altra mano prontamente la salda accidenti a voi le vostre straconerie vi ucciderò tutti e vi beccherò gli occhi in centro che schifo è già venuta fame anche la trattini il fiato spivey tra poco schizza il sangue spivey intanto è sempre sulla tua testa che si sta tenendo stretta sia le corne sta avendo sballottata però solo col secondo non può sparare dalle corna più che altro mi facciai da nether sì beh ti fa effettivamente non può perché non minaccia troppo piccolo dovrebbe avere una lancia in mano per farlo ti farei da nether non ha capito per farei da nether spivey dato che è di taglia tiny non ha area di minaccia una creatura tiny deve stare nel quadretto che attacca per poter attaccare ah in quel senso ok scusa sì ho capito capito se gli metti una lancia può fare a nether se no al massimo può fare a nether su di me per darmi armatura sì chiaro praticamente praticamente spivey con le indicazioni che ti dà battendole sulla testa riesce a concederti una percezione superiore del campo di battaglia a livello sensoriale tu comunque sei abituato a degli input del genere fino a quando sei piccolo fino a quando ti sei addestrato al monastero e per quanto agli occhi all'esterno potrebbero apparire come semplici tocchi senza senza senso senza darti troppo peso per te in realtà sono fondamentali per ottenere una difesa maggiore attacchi pure davanti a te 18 ok il primo pugno dei due riesce a pararlo con la sua difesa ma l'altro lo incassa in pancia purtroppo però la tua forza è stata ridotta dalla dinamicità dell'altro pugno è bloccato vai ah no aspetta per me ci spawn il tango in cassa ti gracchia contro provo ad attaccarti nuovamente il punto il punto però è che tu riesci a difenderti tranquillamente con quanto scudo nel davanti ecco le indicazioni di Spivey perfino i colpi che ti arrivano da dietro riesci a schivarli grazie Spivey Spivey nel frattempo sta urlando imparata una frenesia di battaglia antagonize mi ha fatto la prova ah sì si è entrato quindi in realtà si sposta qua si sposta qua prova ad attaccarti provo a cado qua si si quindi posso provare colpillo colado beh in realtà effettivamente si porta qui anche tu però anche da provo che c'è lo puoi attaccare oh no perfetto come come i pari colpi del tango davanti ti giri un attimo un istante e ti rincalcio nella schiava del tango quasi gli spezzi la spina dorsale ma qualcosa ha impedito ha impedito che si che avvenisse il tango ancora in piedi seppur dolorante seppur spinto in avanti verso le grinch di Tauno vai Tauno ok rifaccio sempre antagonize su questo di qua va fatto ogni turno no non penso vabbè ma perché l'hai appena colpito non vorrei che magari il prossimo penso che sia immune entro 24 ore poi dopo una volta che è entrato cioè come tutti gli effetti intimit dopo l'ora come io intanto io lo faccio e faccio una spadata su questo di qua intanto su quello sotto e poi uso due si non puoi targhettarlo non puoi targhettarlo io adesso perché ah ok non posso più targhettarlo con cosa in realtà sono un po' indeciso perché volevo fare il ray of vabbè quello che fa danni non letali ma non penso che ci abbia senso ma spaccato adesso e non ci arrivo a fare un altro attacco fisico quello sopra ma ah uccidi quello sotto quindi c'è un colpe basta ragazzi l'ho appena colpito e basta colpisce quello quello ok perché c'è mezz'azione non la volevo sprecare me posso mettere in difensiva lo dovevo dichiarare prima e combattere in difensiva colpisce eh sì colpisce cioè se io dichiaro adesso combattere in difensiva scende il tiro per colpire basta no? sì però entra lo stesso a posto allora combatto sulla difensiva così c'è un po' pca per quando attaccano ok eh praticamente porti la spada verso il basso in modo che tu riesca a parare colpi infacilmente e poi fulminamente infiarisci sul tengu sottorite della tua posizione sopraelevata penetri l'armatura riesci a tagliarla proprio però non vai troppo in profondità nella carne perché il cuoio ha tolito il corpo il tengu arranca risbuffa su di te vai Aidan ok allora provo nuovamente perfetto per una volta allora faccio così faccio un tiro di concentrazione per evitare l'attacco d'opportunità da quello che non è questo ma è quello che sto per tirare ok e poi uso quel 19 per l'abilità per cui non spreco l'incantesimo e riprovo nuovamente Grizz su questo qua ok ah si scusa non devo farle la prova sono ritardato stavolta però la sua presa non riesce ad impedire all'arma di scivolare perché un ulteriore strato di grasso di olio viene a formarsi sopra imbrattando pure le mani come come lui riesce a beccare il momento perfetto perché lui la sta alzando verso l'alto per colpire Akira ma gli scuscia via volando di sotto le magie batteranno sempre le spade corvo il tango sembra star tenendo adesso vieni uccellino vieni il forno a caldo sono 12 no ok è solo il primo ma non l'ho preso no col secondo si ed è sufficiente praticamente il tango si è trovato istantaneamente senza difese perché la vanizza scivolata via tu approfitti la situazione per schernirlo verbalmente e poi con una mano aperta affondi nel suo nella sua pancia nel suo intestino con le unghie affilate da demone quasi dure come la roccia inizi a affrogare nelle sue budella e gliele tiri fuori il tango chiaramente non riesce resistere allo stress fisico e muore davanti ai tuoi occhi il suo sguardo si spinge si fa vitreo e la sua sfumatura rossa ardente dei suoi occhi lascia il posto ad un bianco quasi spettrale come se la sua anima la sua vitalità si fosse prosciugata lo lascio cadere lo lascio cadere di sotto anzi no no non faccio niente di evidente per buttarlo di sotto insomma lo lascio lì e faccio un passo di un metro e mezzo fra che c'è l'altro l'altro tango prova a colpirte ma praticamente non si aspettava che tu gli arrivasse in faccia così velocemente ha calibrato male con la wakizashi e va a cozzare sopra la tua spalla senza scalfirti l'altro tango sotto di te taono prova ad attaccarti ma il tuo scudo riesce a proteggerti più che bene tocca a te taono ok io faccio un passetto tattico e fiancheggio questo insieme a dakira e provo a colpirlo ok sedici quindi ehm sì preso praticamente uno uno scatto fulmini da tra le spalle del corvo non riesce a girarsi in tempo perché riesce a vedere il suo collo che sta cercando di spostarsi e girarsi verso di te ma tu con la katana porti un fendente dal basso dall'alto verso il basso sulla sua schiena incidendola permanentemente il tango spira la sangue su di te e con la katana e gli tagli la testa facendo zampillare il sangue questo questo di te su akira io do un'occhiata io do un'occhiata alla rampa di scala in basso e prova a colpire l'ultimo tango con il mio fiatto acido provocando un lago di lava provocando cosa distruggo la rampa e moriamo tutti non hai fatto nemmeno il decente beh lo devo fare ora infatti un altro uno quasi ammazza è un fallimento totale sembra che i tuoi poteri i tuoi poteri dipinatori non siano particolarmente spiegati oggi tant'è che non riesce a concentrarti nemmeno per lanciare il fiatto oggi spostati spostati da lì akira akira il bungee jumping lo faccio così lo prendo no da qua si cioè in realtà no perché se lo vogliamo essere non prendeva neanche idon esatto beh posso lasciarmi tipo cadere così si puoi si certo che puoi però è considerato movimento un ferasone un passo di un metro e mezzo beh ma la caduta la caduta la caduta penso che sia risulta con un movimento perché è più di un metro e mezzo se com'è ehm sì ma è una caduta non è un movimento cioè non sto volando giù sto cadendo io mi sono mosso circa un metro e mezzo in avanti però in effetti se tipo si svolgesse un combattimento cadendo costantemente la migliaia di metri non conterebbe il movimento ma che cazzo no la situazione è un'attesa comunque obiettivamente mi basta ancora un attacco però fanno due azione è uguale tanto basta anche un attacco è quasi morta lo beccavi anche col primo praticamente ti sporgi dalla rinchiera ti appoggi ad essa la salti e mentre stai cadendo ti dai tipo lo slancio con i piedi e gli vai a finire in faccia spiaccicandola sul muro tipo capito capito no capito no esatto nel senso fai fai pressione con i piedi buttandosi di sotto sulla faccia e va a cozzare diciamo sul muro quest'ultima sotto la potenza dei tuoi muscoli si compatta fino a quasi ad esplodere non niente è un bene ok perfetto per l'ustra si prendiamo faccio faccio prendo quello che c'è allora in totale vi dico subito quello che c'è in totale si ah stai scrivendo proprio lutto si la wakizashi e l'olio delle olive è caduta di sotto è sempre sì ad averla sussurrante io ho scritto le cose le cose interessanti minchia tre pozioni di blur porca troia hanno armature si ma sono di cuoio normale si infatti ho detto ho scritto le cose le cose interessanti questi erano più arroganti di noi comunque è andato oggetti per ammazzarci non è andato solo quanto vengono le dosi di veleno scusa devo informarmi però adesso dopo ho fatto segno sì infatti ok ok allora il portone di fronte a voi il portone di bronzo è sbarrato però potete prenderla a pugni finchè non si rogni beh ci pensano i miei amici capire se si può fare qualcosa di più intelligente che prenderla a pugni tipo? non lo so cioè c'è il portone qua giusto? sì queste qua sono cose per le frecce sono pesanti si anche le dotate di feritoia tra l'altro sì ok ma loro non hanno chiavi non hanno un cazzo no e quanto sono alti i portoni? allora ehm tutto comunque e allora il cioè più che altro sono portoni sopra è tappato cioè è tutto muro non è sì non è scavalcabile per dire esatto questo qui in realtà potremmo dire che sia quasi sì è l'unico pianto quello che riuscire a capire è abbastanza alto però sopra c'è il tetto ecco mh vabbè certo comunque arrampicarsi sul tetto è sempre un'opzione perché in ogni caso è possibile quanto possibile quantificato in difficoltà della scalata? ah le rocce sono irregolari nel muro quindi non non troppo di fede comunque in ogni caso vedete che va la vuole vogliamo provare ad arrampicarci? sfondare questo sfondare questo portone farebbe un casino incredibile e ci troveremo tutta la fortezza davanti appena sfondato Spivey che è sempre sulle tue corna e ormai sembra essere in preda ad un'apprentesia e non è ancora finita dal combattimento e batte forte sulla testa cioè relativamente per la sua stanza sei uno stupido Akira sei solo stupido pensi che non sappia che siamo qui abbiamo fatto già casino abbiamo distrutto il pavimento accidenti che hanno vinto questi questi corvi per ucciderci perché sanno che siamo qui abbiamo fatto più casino di 10 Sandro che urlano ubriachi messi insieme quindi abbiamo distrutto l'entrata quindi tanto vale proseguire con l'opera e distruggere tutto distruggiamo tutto invece con le tue manine piccole non riusciresti ad armiggiare con la serratura sarebbe statico comunque stai facendo un sacco di nuova ancora? sì adesso no scrivo adesso no adesso no ah ok dicevo avete sentito quello che io ho chiesto comunque sì tipo di fare cosa? scusami non ha capacità di escassinare in sostanza io ho chiesto non l'avevo capito non l'avevo capito ma secondo te cosa potrei fare io a questo porto gigante? posso solo osservarlo mentre lo sfonda spostatevi su distruggiamo tutto statico basta basta è l'allarme del castello spyby sei sicura che fosse desna no? la tua rovagoog spyby sembra ricomporzo in un attimo scusate mi sono lasciato avanti a prendere dalla fresia della battaglia comunque in ogni caso questi qua sono cattivoni no certo è questa porta che non mi sembra così malvagia da meritare tutto questo ma tu non sai cosa potrebbe aver fatto la porta io dico che è malvagia perché lo percepisco nella sua anima e scoppia a ridere avanti da uno diciamo schiocca un punto sul porto nessun risultato solo quello di una mano scomposta proprio la scomposta solo beh in ogni caso Akira mi si apprende a due spendo tre cariche dell'anello della rete vado a forza 29 e faccio una prova di forza per romperlo ok mi fa qualcuno eida nada eida appunto per fargli dargli qualcosa io posso anche farlo ma è inutile il mio ok prova un po' riattivare il microfono meh meh magari va tu vai che la faccio ancora l'allarme no 29 quant'è di bonus ehm ehm 9 no 26 più 8 sì 9 meno 10 diviso 2 ragazzi esatto dai che coglioni veramente tutte le volte che usi la mia voglia di da dire è vero puoi ritrovare hai altre cariche vado a 3 come lo aiuto anch'io vado a 4 lui ti aiuta il negativo io faccio lo sgambetto mentre provano in realtà Haydans ha messo tra il mio calcio e il portone non è 10 la prova è 16 sì beh non basta beh chiaramente non basta eh praticamente praticamente con i pugni sbatti sul sul portone come come c'era successo l'altra volta il tuo braccio si ingrossa prima nella parte alta sulla spalla e quando lasciantare il pugno questa questa massa deforme va a riversarsi nell'avambraccio e poi sul pugno che diventa enorme per un istante e l'onda d'urto colpisce il portone facendolo rimbombare adesso se non sapevano che eravate qua sicuramente lo sanno eppure però il portone non si è sfondato uso le ultime le ultime tre cariche di questo passo magari aprono ma se gli facessi in attacco normale akira se tu usassi in attacco normale c'è troppo hp sto coso c'è troppo quasi c'è troppo hp uno sfondarlo con la prova di forza devi andare da solo però qui c'è un più nove perchè c'è un più nove per la riete ma sono finite le cariche no le hai finite ora no cosa ti c'hai detto prima uso la mia ultima ma che cazzo ho tirato ho tirato la cosa sbagliata comunque ora è diciotto il tiro di dado comunque più nove perchè c'ho più 27 alla forza c'ho 29 alla forza quindi c'ho più 9 ha detto ora che la tirata Andrea ma quel 10 lì cos'era scusami era la seconda ma ha letto che ne hai tre questa è la terza prova beh comunque comunque basta cioè nel senso non riesce a superarla un'ultima prova il tuo braccio si ingrossa nuovamente e quando l'onda d'urto colpisce la porta la scarpina completamente cioè senti proprio che l'asse che stava la stava tenendo Pietro si spezza e la porta si apre di colpo andando a sbattere su sul muro facendo un voato ancora più forte di prima chiaramente una forza cinetica così potente ha scardinato anche gli assi della porta che pendono pendono e cibo in balia tocc 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 fine file di colonne sostengono il soffitto alto 12 metri di questo lungo salone le torci inserite sugli appositi sostegni alle colonne e due fosse per il fuoco portate di spievi di ferro al centro del pavimento disseminato di paglia proiettano nella stanza un baglio allo sastro varie porte si aprono su altre stanze dentro i dati del salone al risotto di balconate alte 3 metri cariche di tavoli da banchetta all'estremità opposta del salone una balconata alta 4 metri e mezzo che ospita il tavolo padronale sovrasta il resto della stanza dai due fuori per il fumo aperto sul tetto arriva ulteriore luce il gracchiare di molti corvi che hanno fatto il nido sul colmareccio del tetto sembra una sala comune allora intanto mi guardo in giro stai iniziando a guardarmi in giro per examinare ma come una frazione di secondo questo gracchiare di corvi si fa sempre più intenso distinto osservate verso l'alto verso i duchi e con vostro grande orrore riuscite a vedere centinaia di corvi che si riversano a grande velocità nella sala verso di voi tirate iniziativa vabbè vabbè battuto vai i corvi hanno formato due sciami di conseguenza sì perché sono uscite da due buchi diverse ok fa vedere che posso fare ok sono tipo a livello del sempre da dove sono usciti o hanno raggiunto terra diciamo no sono più cioè stanno raggiungendo verso di voi a grande velocità se non agisci subito saranno verso di voi perfetto se lanciassi una fiara contro di loro scoppierebbe in mezzo al gruppo dovrebbe colpire un terriere solido centone dovrebbe colpirli sì li colpisce ok allora lancio una fiara dell'alchimista uso un range un range generico comunque nel senso non giocate di meta game nel senso che sono sciami cioè alla fine questo lo dico per aiutarvi essendo comunque corpi un po' di danno le armi lo fanno lo stesso infatti anche questa è meccanica sì in base all'entità alla grandezza della creatura base fai o meta danni o nulla mi pare 24 preso tira il danno tiro il danno il fuoco dell'alchimista e descrizione ah ok un di 6 semplicemente ma beh ma calmo lo stavo dicendo per aiutarvi più che altro non per per tarvi contro e al turno dopo di nuovo di nuovo cosa bruciano ok akira ho arrivato a questo per essere chiari allora io faccio faccio così faccio un passo un passo di un metro e mezzo qua cazzo non dovevo farlo scarabocchietta uso marshal flexibility per prendere per prendere dazzling display e faccio intimidire su tutti come per farli scappare tipo puoi fare intimidire sui su gli animali si si posso essere shaken non sono mindless non sono vermi ok via bestie di verga ma il concetto che sia shaman shaman semplicemente fa se si prende metà dei danni dalle cadere corpo a corpo si ma dico possono venire interessati per si forse si da cosa dall'intimidire si forse è un effetto di influenza mentale di inseminazione da un'occhiata allora sui moni influenza mentale sui moni eh infatti mi ricordava però prende il 50% danni in più da effetti incantesimi a dare come armi sporgimento e incantesimi di invocazione che fanno effetti a dare perfetto quindi ha preso nobri danni non sei bene quindi beh tu gridi contro i polvi a quanto pare però le bestiacce centinaia di bestiacce a questo punto perfino infuocate che si stanno riversando verso di voi non sembrano non sembrano fermarsi al tuo grido eh Tauro vi sono centinaia di corde che si stanno riversando su di voi e ora che Aiden li ha colpiti con la fiala dell'alchimista molti di loro sono pure non fuggati sono caotici si stanno riversando ovunque sporgendo su tutta la stanza stanno andando quasi a cozzare contro la mobilia le porte le pareti ciò che è di legno sostanzialmente e è pericoloso perché la fortezza potrebbe prendere fuoco ma tocca a te comunque da uno ah ok io per non sapere leggere scrivere li carico carico questi fiammeggianti tanto non ho paura del fuoco con la mazza va bene con la mazza si effettivamente dopo la milma ci viene lissintor che tira fuori la mazza sa anche meglio sulle sciame la mazza fa danni pieni fa danni pieni fa danni pieni? probabilmente si perché? beh perché c'è scritto danni di mezzasi danni tra gli enti è perfetto ah ok ok si 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 assolutamente no niente praticamente ti adecino i corvi inizi a brandire la mazza contro di loro ma sono carico si ma non non basta vabbè ci ho provato e poi iniziano a sciamarti addosso i corvi provano a beccarti l'armatura gli occhi praticamente praticamente ovunque ti stanno ti stanno circondando e non riesci più a liberarti come se fossi in un turbine caotico a sprazi colorato a sprazi nero vi è sempre questo gracchiare nelle tue orecchie senti su tutto il corpo i pecchi dei corvi che punzecchiano la tua carne cercano di strapparla e di lamiarla corvi in fiamme tra l'altro esatto fammi riflessi non per prendere il fuoco però ci starebbe ai 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 i'm nauseated no peggio come peggio è morto peggio i corvi tu praticamente imbranisci la mazza cerchi di colpirli in modo molto caotico i corvi inserono la sciamata sulla tua faccia ti mortano le guance il naso la bocca e arrivano ho l'elmo sì ma è uguale l'elmo non so se hai visto com'è fatto è aperto sì ma sotto c'ho la maschera dello Yoroi sì ok guarda erano i pizzichi che erano il collettino le manini invece però gli occhi sono liberi ho il potere della mia dea che dico no non abbastanza no non abbastanza perché iniziano a morderti gli occhi a cercare di strapparteli via fortunatamente però riesci a scacciarli ma ti provocano gravi lesioni tant'è che non riesci più ad aprire gli occhi a cieca sì ma permanente o blind per turni no potrebbe averlo passato credo o qualcosa per diversi giorni per diversi giorni ma proprio tipo questi altri corpi si riversano solite acera bastarmi intanto ah comunque da uno fa neanche una prova di distrazione tembra volontà ma non è soltanto per il cast forse si no è il fatto dello sciame per la nausea va su tembra no mi fanno l'effetto de nausea perché sono troppi allora devi tira tembra e poi se si accasser non puoi castare se sei sotto l'effetto de nausea altrimenti sei solo nauseato di solito è in quel modo cos'è che volete sapere scusami prendi anche anche 5 danni si comunque il tiro contro l'effetto de sciame non quello dei riflessi è l'altro lo dovrei fare all'inizio del mio turno se sono all'interno dello sciame non durante il mio turno 5 danni si l'altro sciame di uccelli si riversa e ti ingloba fanno i riflessi allora si praticamente provano a mangiarti la carne a strapparti la via ma tu tu soprattutto appunto non ti occhi ma tu li scacci via con le mani giganti praticamente con una manata ne uccidi tipo 5 alla volta sono comunque sei danni perché ti dilangono la carne un po' comunque sotto il corpo la perle più che altro andrea mi spiace farlo notare ma c'è anche spyby in quel quadretto oh cavolo spyby deve fare riflessi salva poverina a parte che i corbi sono più grossi così impara ad andare nella testa degli altri sulla testa maio inizia ad urlare mandateli via mandateli via mi sono lo mangiano ma chiaramente lo fa in modo abbastanza drammatico non simpatico dunque idon ok allora passettino qua aspetta lui ti è spostato nel suo turno non ho capito no aspetta non si è spostato ecco ok e prepara un'azione appena lui si sposta al prossimo turno cioè appena lui si sposta io lancio una fila dell'alchimista ma lo dici di spostarmi? penso sia ovvio ah vabbè no in effetti è il tuo turno puoi dire spostati spostati colpirò anche loro con una fiala faccio un passo di un metro e mezzo e poi già che sono in metto uno usano di d20 volevo usarlo come eventuale tiro salvezza ma no ma tocca a me no nel senso si no in realtà tocca ad idon perchè ha ritardato l'azione ok preparato non hai ritardato si lui si sposta come tiro con le doppette sposto tira lui hai qualche bonus? no mancate praticamente la tua fiala per qualche caso del destino delle vie futura passa in mezzo a tutti i corvi senza senza toccarne nemmeno uno e perfino perfino essendo centinaia di cordia ammassare e va a cozzare sul pavimento tira 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 di otto 1 2 3 4 grazie comunque io sono anche cieco non posso nemmeno fare ma che ti ripeto prendo tutti un danno e basta sì anch'io però non prendo fuoco aspetta una cosa anvis prima che finisca la mia cosa prima quando hai fatto attaccare loro gli hai dato un d6 di danno cioè il d6 perché erano in fiamme ancora loro non hanno ancora attaccato ah ok non hanno fatto beh sì hanno attaccato me prima ma era cioè nel senso loro hanno ucciso solo una volta per ora è però comunque la prima azione è stata quella di Aidan sì ma nello stesso turno cioè adesso prendono altro danno ogni volta che è il loro turno prendono il danno appunto loro hanno fatto solo un turno è andrei hanno preso il danno dell'attacco più quello del primo turno che hanno fatto quindi un altro d6 ho tirato io ok e fai ancora uno e mezzo il danno io non mi sono spostato uno e mezzo di uno uno lo flarro flarro lo sciame praticamente Akira si sposta un attimo molto velocemente esce dallo sciame che cerchiamo di divaniarlo di strappargli gli occhi e un preda ad una frenesia combattiva di anche rabbia nei confronti di queste creature così oppressive quasi come se ti ricordassero la stanza in cui hai vissuto per metà della tua vita in quel monastero dannato quasi come se ti ricordassero la claustrofobia quando ti sei trovata all'interno di questo sciame che ti circondava ad ogni parte uscendo fuori con una rabbia ancestrale inizi a prendere a pugni i cordi e con le mani enormi che hai ne colpisci più alla volta stendendoli praticamente tutti con l'ultimo attacco passi da da sinistra verso destra col tuo braccio sinistro il braccio sullo sciame con la massima potenza e praticamente i i cordi si spiaccicano sul tuo braccio prendi l'altro porti altri cordi sul braccio destro e poi chiudi entrambe le braccia in una morte spiaccicando i tuoi mosche esatto solo che invece della mano l'hai fatta con tutti i bracci con tutte le braccia perché sono più grandi però effettivamente mi dovevo spostare qua vabbè io vabbè dopo aver sbuffato un po' nel senso boccheggiato per gli attacchi credo argerval dovrai guidare tu la mia mano non riesco a vedere e comunque io provo a sferrare qualche colpo ma non è scio lo sciame io non so nemmeno cioè si faccio un movimento ma non ho cioè partivo dal concetto che non ho idea di dove sono e come sono messo non vedo si mi muoverò qua anzi qua faccio un passo e colpisco a caso non so non so corre perché non so dove posso andare a finire vai applica i malus al tiro riesci a distrecarti dallo sciame di uccelli aspetta sei cieco devi dirare la percentuale ok beh sì praticamente ti sposti un attimo con una mano ti tieni ti tieni gli occhi sanguinanti sei affannato probabilmente anche incazzato con i giorni e inizi a menare con la mazza crollano sotto sotto il peso chiodato uno ad uno il sangue rimane sull'arma piccola sulle mani e ti senti appiccicoso senti però che i corpi hanno smesso di gracchiare manca cosa che percepisci è un'enorme pozza di sangue sotto i tuoi piedi che ti ti infradicia gli stivali tasto con la mano libera tasto alla ricerca di una parete mi ci appoggio è dietro di te mi ci appoggio con la schiena e c'è un pilastro ti lascia cadere su questo pilastro qua stremato dalla battaglia Tauno che succede Tauno stai bene? mi giro penso che c'è ora tipo gli occhi sanguinanti si tipo occhi tumefatti rossi sanguinanti oh diamine ah non non riesco a vedere aspetta guardo se contro qualcosa nello zaino ma nemmeno cura ferite toglie st'effetto necessità no ristorare nemmeno sono spy qui ci può mettere una mano se può no aspetta vabbè dai se a me torno accampamento arriva di sotto non sarà difficile no io muo nell'altro il che l'altro qua c'è scritto ma che ho una prova di guarire con cd15 si la cesità dura per un di quattro giorni finché i dati non guariscono naturalmente o non vengono curati tramite le nuove cesità una prova di guarire con cd15 ah ok in operazione da campo vabbè cristo no perché nell'entr del murder of crows che cosa non c'è quello dell'healing della prova di heal che cosa non c'è quanto è bello il fatto che si chiami murder of crows ma è strano non ci sembra è vero chissà perché tu ci hanno messo perché forse nell'app non volevano sì non volevano tenerti i pg blind per tutti i quattro giorni esatto beh praticamente fatemi stare io ho due heal quanto avete voi spaivi quanto hai non so se posso farlo da solo no però posso dare una mano senza che posso dare le indicazioni su quello che si può fare provo a tirare io per dare una mano a spaivi perché penso abbia di più se no contate la mia da una mano ne curo da solo posso no ti cura spaivi vabbè do una mano ah lì mi fai male ah maledetta stai zitto stai zitto stupido colcone hai le mani così piccole eppure sembrano gli grossi travoni ma cosa dici che il mio tocco è più delicato di quella di una fatina aspetta io sono una fatina ti sembra il momento di fare battute spaivi a occhio per queste cose su 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 cerchiamo di portare un po' di disorientità rimasti allora fammi vedere apri qua l'occhio e se sento un sonoro rumore la pelle che ti strappa ah no meno male che non puoi vedere è un disastro di sangue ma voi non avete una fortezza da esplorare spaivi riesce di te vai vai di non senza di te amico mio sappiate che oggi non è giornata spaivi praticamente riesce ad aprirti gli occhi a pulirti via il sangue e e ti ritiene un attimo così per praticamente tampona tampona cerca di tamponare sopra gli occhi ciò che è stato è stato ferito fortunatamente le palpebre non sono non le palpebre le pupille non sono state colpite in profondità e riesci sempre a vederci un po' un po' sfocato e sicuramente ti fanno molto male comunque poi per completare l'opera no il non c'è scritto l'iTunes però c'è solo lì comunque per completare l'opera ti ti cura ti cura tutti anche di cinque danni ok e con queste cure fortunatamente i tuoi occhi riescono a tornare dato che la città è stata quasi sull'immigrata e il dolore ti scompare quasi del tutto anche se un po' pulzano sempre ok cosa vogliamo fare? andiamo avanti o facciamo le porte? allora inocchiata alle porte prima per evitare che ci prendano da dietro ascolto questa aspetta allora non percepisci alcun suono provenire da allora questa sala delle guardie è dotata di feritoi con perziare che si affacciano sul pianerotto principale è vuota ad eccezione di vari cumuli di pietre e detriti che sono ammassati per terra sul pavimento fatemi conoscenza ingegneria se ce la vedo certo ah il mio maghetto no ingegneria eh ah no certo è uguale allora è sicuramente sono detriti di pietra estratta in loco di recente ok quindi questa fortezza è usata per estrarre minerale no non hai capito stanno smantellando la fortezza per tirare i sassi a chi sale dalle scale no non ho capito allora ha ragione ha ragione i sassi posizionati qua sono chiaramente ah sono stati posizionati ok ho capito ora cosa intendevi va bene come minimo sto tizio sarà un mega tengu corvo gigante potente caster bel cazzo appena lo vede gli ho caro gli tiro una fiala anzi gli tiro haigan direttamente mi lancia comunque mi piace no va bene perché mi do questa altra stanza presenta più o meno la stessa la stessa cosa dell'alto a pietre e detriti ammassati per terra ok andiamo avanti qua comunque mentre si cazzeggia guardando le pietre dico spyby all'improvviso la tasca non è più un posto così insicuro eh spyby si è vicino a te ti tiro un occhino sulla testa stupido 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 ehm apri la porta no sucio perception come primo perception da tipo cerchi di spiera all'interno non so c'è una serratura qualcosa si chiaramente c'è una serratura no in realtà non c'è la serratura davvero cioè è una è una robusta porta di legno ma è priva di serratura quindi è automaticamente aperta diciamo cioè sono quelle porte che si aprono sbattendoci contro ok apro tipo quelle che che avete visto alla casa di Icewood comunque comunque giusto per dirti perché sennò ci dimenticiamo che io lo faccio di solito in automatico davanti alle porte io ci ho attivato cioè l'indirizzazione del mare veramente sì effettivamente non ci sto pensando è molto bene ricordarvelo e guardando all'interno percepisci da questa parte sei aure malvagie e da quest'altra tre prima che Akira apre faccio facciamo attenzione dietro quella porta Akira ci sono tre aure malvagie poi guardi indico verso le mie spalle ancora una PS una PS quella delle tre nella porta davanti a voi con tre aure è visibilmente più forte diversa come se presentasse una corruzione a livello più profondo nell'intimo della personalità come se fosse legata al gene stesso come se fosse tipo Akira però malvagio sì penso dall'altra parte ce ne stanno quasi no ok io allora faccio detect magic verso la parte importante detect magic verso la parte importante ti dico subito sì non vi è niente di di magico in realtà no niente di magico ok sarà forte ma non ha niente con sé che mani aure magiche credo che probabilmente sia una cosa dovuta alla sua alla sua specie un esterno sì qualcosa del genere bene allora ci prepariamo a combattere sì però sono preoccupato perché potrebbero venire quelli dall'altra stanza in tutto sono nove nove aure questo è sbarrabile questa porta sentite una voce proveniente dalla stanza in tra di voi basta cazzate è tipo la porta si sfonda si apre tiro sullo scuro e cambio arma la porta si sfonda e lascia intravedere un orso umanoide imponente su di voi ma cos'è non zosto posto in mano ma lo dico e lo dico proprio in mano impugna una scia che sembra indattata incrostando il sangue di centinaia di nemici mi cassa alter self quando lui dice basta cazzate passo di un metro e mezzo e mi cassa alter self allora io scudo tirate iniziativa entrano i buff prima di iniziativa si ma che cazzo è sto posto la rocca del corvo però beh i corvi ne abbiamo trovati anche troppi dunque 22 aspetta metto il turn order non mi sa che serve secondo ragazzi portate pazienza mettete la vostra iniziativa le? a a 1 a a Bene 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 Perfetto, vai Akira Quanto sei brutto Passo un metro e mezzo Ok E lo flarro Perfetto 21 al secondo entra Ti porti in avanti e tiri un colpo, un singolo pugno nella pancia dell'orso Il quale incassa fin troppo bene Le sue strati di grasso e di velo Lo rendono resistente Così ti sembra Lui ti guarda e ti sorride Con un velo Con un pelo di Odio Nello sguardo I suoi occhi sono infuocati Tu Demone Ti affronterò per ultimo Potresti tornarci oggi Scelta sbagliata Decisamente sbagliata Lui Porta l'ascia sopra la tua testa Perché è anche più alto di te Di poco però Però è più alto di te Porta la sua ascia sopra la tua testa Per andare a colpire verso il drago Il quale però Riesce a portare lo scudo verso l'alto Appena in tempo Per Per parare il colpo Che altrimenti ti avrebbe tagliato di metto la testa Senti rimbombare tutto lo scudo Le tue rosse Le tue viscere Questo Questo colpo così Così potente Idem Ok Ok Di venti Ok nulla Eh Passo indietro E Spells Dov'è 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 Cosa? Eh No niente Vabbè nulla Eh niente Allora semplicemente usano la pacchetta ancora Per colpirlo Attacco Con quella Quante ne hai ancora di cariche? 17 Più o meno controllo ora E tolgo il Un meno uno Ah cavolo 9 No Non lo colpisce Il tuo In realtà Il tuo raggio va a cozzare Praticamente Nella frenesia Anche un po' Nella paura Di scanzarti Da questo Enercomono gigante Ti sposti indietro Sfotri la bacchetta Ma non riesci A Diciamo A destreggiarti con i piedi Quasi inciampi Il raggio va a finire Sul 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 pilastro Potevo usare l'otto Però vabbè Beh Ma devi dichiararlo prima O dopo Sì 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 Devo dichiararlo prima del tiro Va bene Una volta Perfetto Tau Allora Allora io Io innanzitutto Mi metto sulla difensiva Come Uso il blessing Del bene E praticamente L'arma inizia A brillare De oro De giallo oro Insomma Faccio un disempio De danno E come azione veloce Uso L'antagonize Solo per confermare Che se la prenda Solo con me Vabbè Questi energumeni Con la Con l'ascia gigantesca Che sbrindellavano la gente Quindi lo guardo Proprio con un odio pesantissimo Bestie come te Aberrazioni Per questo mondo Fatti avanti Creatura schifosa Sono io il tuo avversario Alzo lo scudo di Brian Wall Per tutte le morti di Brian Wall I mostri come te Devono perire Cancellerò la tua razza Da questo mondo Lui Ti osserva con un'aria Carica d'odio Ma al tempo stesso Enigmatica Non so di cosa tu stia parlando Ad umano Ma ti farò volentieri A brandelli E' finito il turno Si perchè ho fatto L'azione dei movimenti Standard per attivare Il potere del Del bene L'azione del movimento Per la difensiva E' un attacco Ok E' un attacco D'opportunità E' anche tutta Praticamente Dalla porta Dietro Nel comono Sciamano fuori Dei Dei rossi Malviventi Chiaramente Non Al pari rango Di un ninja Delle ombre ghiacciate Anche da come sono vestiti Dalle movenze che hanno Dalla portanza Che Che Mantengono il combattimento Ok Praticamente Uno dei due Dei due tipi che sciamano fuori Si butta Sul lato Dell'orso E tu Con un pugno Con un singolo pugno Mi colpisci La faccia Così forte da Comprimergliela Indietro Entrare con la mano All'interno Del teschio E distruggergli Tutta la parte Anteriore Della faccia Della mascella Della Esattamente L'alto Talla C'era Mentre Si porta dietro di te Ma ce l'ho io l'attacco D'opportunità Se non attacca Si ce l'hai ce l'hai ce l'hai riporso morto capo c'è anche indi 6 extra perchè è malvagio 13 solo 13 no rotata mi sa che conta la difensiva quindi è 11 quindi non l'ho colpito no difensiva è meno 4 ah e allora non è totale eh no ma combattere sulla difensiva ti dà meno 4 ah ok vabbè allora l'ho colpito ed è una stanza che tu attivi quando combatti non è una stanza fissa diciamo ah ok ma vale adesso o no beh anche se non valesse comunque non lo prenderesti vabbè questo è stato più furbo se porta dietro di te tu provi con girandoti velocemente a colperlo con la katana ma è troppo lontano lo schio facilmente e poi tento mi attacco alle spalle di Akira che colpisce riesce a perforarti l'armatura e andare leggermente in profondità sono 11 danni sneak attaccano fin di puttana no 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 è solo che ha una lancia e ha fatto 8 soldata ok ok ah chi va anzi no aspetta aspetta l'altro che è Akira sii festa togliamo sti merda di più i corpi eccemente adesso siamo tutti circondati eh c'è eh c'è ve la prendete se vi faccio esplodere malviventi scagnozzi delle ombre ghiacciate e provano tutti a perforare il tuo scudo a superarlo con le lance ma tu con una difesa perfetta ti chiudi su se stesso ti ruicchi difendendoti con lo scudo non riescono a penetrarlo Akira l'orso vi guarda e ride sareste meglio da rendervi così avrete una morte veloce e poi scoppia a ridere no scherzavo sarò ancora perciò perché non stai zitto mentre sta dicendo pegg tu praticamente carichi con una delle due mani una delle due braccia il pugno e gliela tiri in pancia l'orso incassa nuovamente se questa volta vedi che sta arrancando gravemente con l'altra mano quindi infierisci dove il tuo pugno ha colpito dove il tuo pugno ha creato questa specie di solco nella pancia prendi la carne dell'orso e inizi a spudellarlo e il pugno che è rimasto lì a fondo della carne mentre l'altra mano la dilania senti le membra le budella del corso dentro che avvolgono le tue mani sono calde il tuo sangue il suo sangue scorre sulla tua braccia e all'interno apri nuovamente la mano infili l'altra e squarci completamente l'interno all'intestino le budella dell'orso praticamente aprendo come come se fosse un alien che esce fuori dalla pancia queste queste due estremità della pancia verso l'esterno sangue potresti provare ad arrenderti adesso prova ad arrenderti magari la tua morte oh sei già morto l'orso mentre lo stai sviscerando ti guarda il suo volto questa questa prassi così irregolare l'espressione l'acqua si fa sentire l'acqua le sue ocche che perdono calore che perdono intensità sulla sua bocca un'espressione una smorfia di dolore non concepita non capisce sia soccombere come soccombere così facilmente eppure però la sua domanda ecco non avrà mai risposta perché crolla a terra e muore nel suo stesso sangue intestino spaccato e feci idon eh non tocca più ok visto che questa è appena trasformata nel festival del massacro provo un piatto acido ah quindi è di nuovo come 34 hp è uscito grossone ecco la 17 ok il prendere lo prendo e ora ti diamo il 100 more like 42 no 18 oggi non globula no no mi sto caricando del fare 100 contro il boss aspetta eh no 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 praticamente cerchi di focalizzarti nuovamente ma la tua mente è un insieme di visioni di realtà che non riesci a controllare com'è un mare selvaggio e tu sei in mezzo e stai cercando semplicemente di non annegare non riesci ad afferrare la potenza di questo mare scatenarlo sui tuoi nemici eppure però senti che al momento giusto tutta la potenza del fiume in piena potrebbe spaccare quella roccia quel destino fisso quello scopo malvagio taolo allora io attaccherei questo qua così mi tolgo dal cazzo della come si chiama del fiancheggiamento ok comunque se argervarlo ogni tanto tirasse quell'haid si aspetta 88 non c'è 12 senza 88 l'altro proposito Elgerval grida forza avventurieri coraggiosi miei provi annientate questa schiera di malvagi persone empie che non meritano di vivere devono essere sterminati proprio con il loro cavo prendete le loro butelle e rinversatele sul carriero perché così vuole la giustizia divina la giustizia divina 3 di 20 quanto l'icea? attualmente 24 allora non ti prende aspetta la lancia quanto no niente ah i dan quanto l'icea? 20 preso praticamente dico troppo spesso praticamente uno dei banditi fa uno scatto si gira verso di te inaspettatamente e ti pianta la lama in pancia fortunatamente scusami la lama la lancia in pancia fortunatamente però il kimono attutisce il colpo e senti solo un gran dolore per la per l'attrito però non pentra effettivamente nelle tue carri ti scombustola però a quel punto va quasi farti humilare quanti danni? 9 quanti ne avete ammazzati? quello quello che si è sposta per andare ad attacca akira lo coso ah si ah no aspetta è un passo tattico sono tutti in piedi ancora akira mi stanno circondando completamente siete due da uno spalle contro spalle schiena contro schiena e tutto attorno a voi banditi che vi prestano con le lance che vi stanno spingendo verso il fuoco dovete reagire al più presto posso gridare una cosa da nera questi sono tipo braceri non sono colonne del fuoco giusto? sono buchi di fuoco ok akira ti spingo là ti spingo dall'altra parte sono braceri dobbiamo toglierci da questa situazione ho ammazzato uno e faccio un passo tattico così ah spacco questo mentre dico questa cosa poi vedo la scena faccio niente scusa scusa l'isturbo io faccio cerca di colpire questo ma non riesci perché ti sono decadato sotto i tuoi piedi quasi inciampi su di essi per salirci sopra e il colto colpo non è tanto preciso quanto avresti voluto e non riesci a colpirlo ai ok passo indietro e riprovo mi spiego usate come test ma devo scoprire i segreti del segreto ma non tirare prima quello ti serve nella percentuale scusa ma ti cambia 10 porca puttana ok prima la percentuale prima la percentuale se no dopo il gioco dice ma tanto l'ha già fatto il 18 down io foga proprio continuo ad attaccare di questi che mi fiancheggiano ah e stavolta ti ho avuto stronzo si si aspetta che non è finita ecco ti vado ah che bello alzi la katana verso il cielo la luce divina risplende sulla tua lama una luce accecante biancastra dorata secondo certe sfumature cala sul nemico e sembra tagliare come passare attraverso lui come se fosse burro la sua carne quasi si fonde sotto il passaggio di questa lama sacra potenziata dalla gloria dal poter di Scizoro non fa nemmeno fatica a tagliarlo fino al ventre perché la sua pelle si si come se si facesse da parte per far passare la lama e si cauterizza istantaneamente però ormai non c'è più niente da fare per lui lo è tagliato dalla spalla fino al ventre e la ferita si è cauterizzata riesce a vedere il cuore tagliato a metà esattamente a metà l'ultima risposta il malvivente dopo di te prova a infilarti la lancia nella schiena ma va a concizzare contro l'oghero non penetrandola guarda davanti a te pure le due lame si ficcano nell'armatura senza però arrivare alla carne come osi in stegliare la mia armatura non sai quanto costa ripararla la gloria di destina e di shizuru calerà su di voi malfattori io Elkerval vi condanno ad un'esistenza dell'inferno e dell'abisso va a chi l'ha faccio questo dato che quello che viene primo minacciato direttamente è mio fratello dato che non ci sono io davanti a lui colpisco prima questo comunque io non avevo ucciso questo ah se vuoi si eh si perché fiancheggia non avevo capito qua sai sono 3000 dai seriamente vai col secondo vedo un rosto allora nessuno dei due ha preso ti avvicina verso Deloria e provi a squartarlo però il il bandito è a distanza con la lancia tu tu afferchi la sua lancia e inizi a squartarlo lascia mi mostro lascia mi cassino tannati tu antenati già fatto il destino sta solo ritardando la tua morte brigante Aitan no niente Aitan sta perdendo turni così lui sta lì sta strecando in due tavolo beh a questo punto me la prendo con questo prenditela con questo che è flancato ah giusto si vediamo chi è il prossimo così mi sento un po' una merda li sto un po' sottovalutando questi fuori cristi è sbagliato in realtà vabbè questo non l'ho poi sottovalutato così tanto aspetta però no non è confermato però tira più 1 di 6 beh vabbè doveva morire male questo si praticamente cosa succede alzi la katana in diagonale una luce risplende nuovamente sulla lava con un'azione fulminea lo tagli in diagonale sul busto il petto si cauterizza istantaneamente e il corpo la parte superiore scivola letteralmente su quella inferiore e cade per terra il il corpo all'interno sembra come luccicare come se si fosse imbalsamato riesce a vedere gli organi interni completamente preservati perfino dopo un attacco del genere il taglio definitivo la precisione mortale di shizuru del samurai il tuo maestro tao non sarebbe fiero di te letteralmente una spada laser e muoio io i malviventi provano a colperti nuovamente infilano le loro le loro lance nella tua armatura cozzando non riuscendo a penetrare questo scudo divino sei inarrestabile la manifestazione del poder di shizuru la battaglia ti sta prendendo sempre di più sta entrando in questa frenesia combattiva che ti avvolge completamente ti senti come rinato purificato nell'animo aspetta chi era questo tipo si gira verso di te provo ad attaccarti non riesce lo devi tranquilla tocca a te oh no il primo si ed è sufficiente praticamente scazzato da prima esserti impantanato sulla sua lancia lo afferri fulminamente al collo gli strappi la ciugolare lasciandolo morire a terra senza nemmeno appignarsi di lui spostandoti velocemente per andare a colpire l'altro che però riesce a pararsi con la sua lancia vai ok qualcosa faccio fiotto il bersaglio è lui finalmente riesci a trovare la tua congiuntazione un po' di pace interiore un po' una via da seguire in questo mare tempestoso e un fiotto traslucido un raggio traslucido va a scontrarsi sul nemico di fronte a te una piccola singolarità si crea sul suo torace la sua carne la sua carne si scretola come pezzetti di vetro che si frantumano e al suo posto rimane semplicemente una bruciatura il bandito urla di dolore da uno ma io mi volto su quello alle mie spalle e provo fai fare la fine degli altri ma no 13 su quello dietro di te si no mancato purtroppo che di risposta prova a colpirti e stavolta stavolta ci riesce quanto RCA scusa 24 però se questo ha fatto un critico sappi che c'è la possibilità che non entra stava per entrare perché ha fatto 19 sulla conferma per il momento si ma non è tanto non era manco non bastava la conferma si è era pure la fortificazione del coso dei brind e ti fa 4 danni quanti 4 guarda che è quello che mi ha fatto quasi più danni tutta la giornata senza considerare la caduta vai akira ok flarro questo che c'ho davanti perfetto tauro tu ti giri nuovamente dopo essere stato colpito dal dell'emico di te e ti trovi davanti akira che sta piantando suerti nella gola del munico questa volta però non gli strappi la giugolare ma stringi fino a quando la la gola stessa il collo non si comprime sotto la tua mano fino a che non senti il crack dell'osso che si spezza e chiaramente il sangue che zampilla quella della compressione fulminiamente ti sposti verso l'altro e ti dai proprio ti dai proprio una carica spingendo in avanti col piede indietro col braccio il prendi la testa con la mano enorme e lo sbatti al muro facendogli esplodere in realtà vedete che Akira è tipo molto silenzioso come se stesse facendo una pulizia metodica beh ma lo capisco perfettamente visto che anch'io sto giocando a cercare il 100 con questi I don't ne è rimasto scusa ne è rimasto uno? si respiro profondo no ok quanto meno so che 30 non succede nulla fa uno sto puntando tutti i tiri mi giro sull'ultimo faccio se è ancora in tempo per scappare e poi provo a portare il colpo top 10 e e e e colpito vabbè se lo mancavo poteva scappare insomma fanno il d6 vediamo se la fondi col d6 no è sopravvissuto ma allora poi vedi che c'ha ragione c'aveva ancora tempo per scappare si è sopravvissuto e lui scappa tantino attacco d'opportunità no ho deciso che lo grazio è sopravvissuto due ai danno grazie quello lì che scappa sì sì assolutamente va bene giocare ma quando non vogliono giocare più li lascio andare tanto se scendi l'ammazza chalet lo voglio dire vabbè vabbè lui scappa posso dare un attimo vabbè in realtà poi finiamo ma secondo me ragazzi dovremmo continuare ancora un po' perché la prossima settimana cioè spero di riuscire a giocare però fate che ho un po' in dubbio se facciamo ma io sono esaurito insomma sono proprio ai pazzi ok 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 allora finiamo allora facciamo così possiamo aspettare questo piano perché tanto cioè possiamo l'ultima volta che hai detto possiamo fare tutta cosa siamo stati in ora in più io direi che ok ok se vuoi fare qualcosa ci dai al massimo il loot se proprio ehm sì ragazzi ma se questa stanza qui invece è questa no allora facciamo così tu Aidan apri questa porta ma è veramente l'hai aperta oh no c'è un mostro questa camera è occupata da un'azienda di brandine coperte coperte abiti oggetti personali assortiti e vari rimasotti di cibo e piatti vuoti sparpagliati l'aria infusa accanto alla porta sono stati collocati due secchi sporchi e puzzoletti che a quanto pare non vengono svuotati abbastanza spesso inizi a frugare in mezzo alla cianfusaglie in mezzo a questo alle coperte e agli apri della camera però lì un nef un nef te lo scrivo perché non sarei un'ottima annuncia fammi fammi una prova di conoscenza locale praticamente ciò che trovi è un è un gioco ok i locali non è in background trovi questo mi è fatta oggi sarebbe un ma non un giangio sarebbe un gioco tradizionale di vero composto da una screcchiera e delle pedine in avorio di trichego sembra fallire abbastanza inoltre trovi tre pietre l'unica porta fortuna il calcedonio un fermaggio dorato e un elegante custodia da peraghi in osso di balena accese no aspetta non ho capito un cazzo adesso te ne scrivo aspetta un cazzo un cazzo non ho capito un cazzo che e un cazzo un cazzo un cazzo un cazzo che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, rispettivamente valgono... Nel frattempo, comunque, potete esplorare anche le altre stanze. Vuolete il luttarino? Lo so che vuolete il luttarino. Devo tirare, comunque, dai per scontato che prendi momenti e percezione, no? Sì, sì, sì. Beh, tu entri dentro e vai. Togli una porticina. Ti interagini all'altra stanza. Questa stanza è occupata da numerosi rette di legno, dotati di materassi di corda. Ma per il resto è scarsamente ammobiliata. Sembra che nessuno l'ha acquisita di recente, ma potrebbe alloggiare almeno una dozzina di uomini. In questa stanza non c'è niente di interessante. Ok. Questo stanzino è solo un magazzino, cioè non c'è niente detto, è abbastanza vuoto. Le scale sono da questa parte, non c'è, e danno dalla parte sopra. Che noi sappiamo essere subito il tetto. Ah no, è le balconate, giusto? Sì. Ok. Allora, quasi quasi, vai subito sulle balconate. Aspetta. Aspetta, mi stanno chiamando. A quest'ora. Io penso che se qualcuno mi chiamasse di venerdì sera alle due e mezza, le bianze temi. Allora, ti chiedi se è successo qualcosa. Eh, infatti. Chi è morto? È morta zia. No, non so, così civile, prima bestemmiera. Beh, se volete io comunque vi dico. Tu, Akira, esplori quest'altra stanza. Ah, aspetta. No, aspetta, poi ci sarà sporata. Prima allora è Tauo, che va di qua. Dieci brantine sono state ordinatamente disposte. Ci sono. Allora, a questa stanza. A piedi di ogni brantino c'è un piccolo baule. Una bottola di ferro si apre sul pavimento con la parete est. Dai, guardiamo cosa ci sono dentro lì che... Sì, infatti. Dentro i bauli. Allora. I speziali bauli trovate... Dei cubetti strani che riconoscete essere come assesi incenso piano. E inoltre una cosa interessante. Una nota di credito dell'agilità dei Corriere di prima. Dal valore di 80 monete d'oro. E un antico ventaglio d'ebano laccato. Aspetta, adesso è scherzo. Nota di credito. È vero, 80 monete d'oro. Il ventaglio lo regalerei da me. Non vorrei obblare tutto. È un'imperatrice. I regali. Le sono domuti. Ignorando per un attimo la botola, chiaramente esplorate l'ultima stanza che vi manca a questo piano. No, in realtà no, perché la porta è chiusa e chiave. Vabbè, sai com'è? La sfondiamo. Effettivamente sì. Sfondate la porta dopo qualche tentativo. E si rivela. Una camera fredda e buia. Contenente numerosi barili. Canestri. E sacchi impilati di lingue le pareti. Carcasse macellate. Per lo più pecore. Ma anche qualche maiale. Sono state appese assieme a fasci di radici, tuberi ed erbe alle trati di venno subasare. Oltre al cibo, sì, la stanza contiene anche allora, intanto le berrate costruite qui dentro ad una vista veloce possono sfamare 30 persone per più di un mese. anche se la carne chiaramente andrebbe a male molto prima. Oltre al cibo, la stanza contiene anche sette barili di birra, due barillotti di sidro e un decilotto di vino speziato. In un angolo c'è un vaso di argillo pieno di miele fresco. Insomma, qui quando tornate giù dalla fortezza fa... E ci portiamo il carro. Sto spando. Posso capire se il miele viene da api normali o dall'alveare che abbiamo distrutto sotto? Quello non era chiaramente un alveare. Cioè, era la mer... Era la mer... Era un'illusione. Ok, comunque... Allora, se volete, la chiudiamo qua. Sì. Bene. Ciao ragazzuoni. Ciao. Ciao.